Oggi siamo con tantissimi ospiti Ora andiamo con ordine, li presentiamo Torneo di FIFA in live Io volevo dedicare la vittoria del torneo Sono in live, ciao mamma Facciamo vedere a tutti Ok, post Il tramite era di casa Ok, comunque avete modo di conoscere tutti La prima partita è Belgio United Crendo i commenti All'aero, ma è fatto casuale Non dobbiamo metterci più Allora Sì, 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 certo Chi gioca C'è ragia Chi sta giocando? Noi Allora Mi sposto io Per la telecamera C'è la mia prima volta Su YouTube Un po' di emozione C'è Giorgio Oh Aspetta, ho sbagliato C'è un commento C'è il cappetto Ho commentato io Ho sbagliato Non ho modificato Non ho modificato Il numero lo sai Sì, voi giocate Sì, voi giocate Sì, voi giocate Ho sbagliato una cosa C'è che ho perduto Il numero lo sai Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Mettere FIFA Non ho cambiato Non ho cambiato la live Sì Barcellona Via Mater Ma ti da pure Storia Instagram Ho fatto Cicchene Metà Cicchene Metà Ma che È scritto Fica male Ignorante Non mi hanno dato il joystick Fica 18 Però Quali sono i joystick Non lo so Oh, una ha scritta Ciao Chi è? Ciao Ciao Anche è lì Però Guarda la cellulare Perché se non metto qui Non vedo un cazzo Allora Torni un pazzo Stasera ci penso io A gioia Punto Hai sapere Ma la mia cosa Ti giuro Non c'è niente 6,7,1 2,7,0 5 6,7,1 Sono l'accaduto Qualcuno Allora Al filo Si fa Io paura E' appunto Aspetta Però manche Te Anche te Allora Noi ce l'abbiamo contro Dopo Tu chi sei Con tuo padallo Metti Er Sansone Er Sansone Celsi United Belgio Er Sansone Era un account Molto dei gtf Aspetta No Aspetta No Non si può Non si può E quindi cosa mi piace Fai mettiti questo E' quello piccino Aspetta Io poi Quello C'è quello Vetti Valerio Beretta Vetti Valerio Beretta Vetti X Dario Mazzone No no Quello non esiste più Allora Valerio Perchè forse Il quarto E' il computer No c'è lui Già No vai L'uomo utente Perchè sono profiti Di video Ah gioco Era un po' scazzato Era Era un po' scazzato Io non sono Quanto è il record Dispettate Ancora io ci sono Scusami Sì La cammina Guarda Se tu Di forse sei uscito Io sono uscito Lui c'era No lui Ma i tuoi rispondono Il tuo risponde Che che muove Scusa Io sono Però Vabbè 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 Tutti Ambacchiamo Questo Qua sia D'aspetto Dove Un marito Al computer Prato Ora Solita Manel No No Qualcuna Parata Ragazzi Corne Sempre Live So Flop Io Sempre Live Scusate Per l'intervisto Stiamo cercando di risolvere Ovviamente Mi sembra Ovvio Purtroppo Non si può fare Un taglio Il bello Della diretta Il bello Della diretta Sacca Sacca No Nessuno Funzionato Quello Non si muove Questo Se vai su PSN Però funziona Non è colpa Di me Guarda Come funziona Grazie Visto Ma perché Guarda Qua Ma però Non è possibile Non funzionano Molti Joystick Perché funzionano In questo Deve essere Accordata Ragazzi Ragazzi Non è possibile Non è possibile Porco Giuda Funziona Senti 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 Cantiamo Una canzone Cantiamo Una canzone Ragazzi Qual è la vostra La canzone preferita Che è la canzone preferita Inizia Un tempo Aspetta La qualità Non si è buona Forse c'è poca luce No Ti vedono poco Le facce Non ti piace I risultati Puoi dire Che c'è C'è in vantaggio 1-0 Detende Alla Stanford Bridge Ah Apreto due pali Sempre William Sempre William A te Aspetta Aggiornamento 1-1 1-1 Aggiornamento Lionel Il solito Il solito Sempre lui Sempre André Finiese Mozart Pianista Pianista Credibile E dall'Allianz Arena Confermate Sempre 2-0 Dall'Allianz 3-3 Attenzione Ben 3 Non 2 3 Mueller Fate l'amore Con il piacere Domani Mellul Pianista Sta pagando Le spusazioni Di domagos Domagos Vita Ma 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 Aspetta Le squadre quali sono? C'è la live Belgio Sì per se c'è il live Bella Allora Io sono con Lui Con Gabriele No 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 Io ho anche Stacciccio Io ho anche Stacciccio Allora Mi serviva per la gara Allora 2-2-2 Quindi lui con me Mi raccomando C'è il live Non me l'ho definito Cosa? C'è il live Ah sì Non lo so E' il biondo Il brano Il brano Come è Il biondo Qui È una giocata Io ho ma 3600 visualizzazioni No Quel video solo Allora Ma se ti condivido su facebook Bravo Questo lo vede fare tutti Scusate Condividete su facebook Ma io avrei tante persone Però Se vuole Se no no Cosa? Cosa? Condividi su facebook Si è portata la vostra persona No io avrei Si è portata la vostra Non ti è arrivato a condividere Io do Non ti è sicuro No guardia No guardia Di giusto così No no Più altro Eh che lo scrive Eh che lo scrive E' la quale Mi è arrivato Ti ho postato Ok Se non avete che fare Grande me Condivisa Conto I che risulta l'aggiornamento Poi Già che siamo al problema Oh hanno scritto due ragazze La ragazza La cagli No chi è? Come è? Benvenuta A Sweet Non mi fate gli fogliati Per favore C'è Andrea bestia Voi giocate Io studio Comunque Ma che tu Ma che ci credi 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 Allora No Ma lozzo C'è Oh cosa scrivo Cosa scrivo Quano per lei Cambio la cosa Dava scritta Qua giù Un secondo Ho sempre 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 C Sono nazionali No Mi ho scelto Ah Quindi tornava Una scritta Con il nostro Il mio cugino Il mio cugino Che andrà Il mio cugino Con il mio cugino Ah Cosa fa il moderatore Ma io vorrei farlo Ma non c'è l'account Io vorrei andare Io vorrei andare Io ho in Instagram Allora Che metto qua Ho scritto Forza belgio Lo chiedono Gli spettatori Manuel Con il solito Spaghettone Mi scherano Tu ho su Camano Luca Banno La Cosa Vabbè lascio Questa Ti parla da C'è un genitorio C'è un genitorio Io voglio Forza Juve Ha scritto Sweet No 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 Oh Sweet Io non so chi sei Ma aggiungimi Perché sei juventina Quindi Ah 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 Quindi per me È il top Per favore Le famiglie Voglio vedere Sweet Che ne pensi Sweet Juventino Oh Juventino Ti vuoi mettere con me Dichiarazione Dona due euro Allora Se potete donare due euro Mi fa piacere ragazzi Perché Qua c'è Chris Minchierio per lei qua Ti ho detto Che c'è? Mi ha detto L'ho scritto Oh Madonna Oh Oh Hanno scritto un deriva di persone Manu Ciao 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 Antonio Saluta Saluta Antonio Dov'è Matteo, chiedono di Matteo Oh, chiedono di Matteo Siamo arrivati a otto spettacoli Javier, vieni Javier Chi è che cerca Chi è che cerca Maddog Maddog Oh, stai gruppato Matteo Andremo, stai per finire Maddog Ciao Maddog Capitano ora ti dedica il gol Oh, sweet Io dedico la vittoria a te Questa sera è solo per te Allora, intanto Claudio Anolino C'è Claudio Ti avrò sempre questa sera Ma io Che c'è Pippo Al giorno è così Sì, l'ho visto Forza, sweet Ti amo, sweet Ma non è sweet Ma perché fino a qua? È sweet Stai incazzando il cane È giusto Sta partendo il cane Io no, non mi amo Mi sta guardando male Aiuto Ok, forse Ciao, piano Che se no la pizza non si sente No, c'è Charlie Charlie No, lui Stava per avventarsi Sweet, sweet Ok Oh, dieci spettatori Piano piano Fidiamo in tendenza Andiamo in sweet Dobbiamo finire in tendenza Condividete Sweet Io ti aspetto su Instagram Però mettiamo X qua Chi è che c'è il controllo? Allora, io con il Dio Solo per me Dovrebbero funzionare Vediamo se funziona o no Ma loro stanno vendendo FIFA per ora Questo qua vedono Ok Allora, tutto questo È partito Il mio cane diventerà famoso Minchia bordello Ragazzi che squadre proponete voi Io no Ha scritto io no No, io no Siamo sweet Io no Ah, sweet ha detto io no Mi sto prendendo a mio fratello No, no Prima ci proviamo Forse è stata una roba da fare Sola torna No, vabbè Non è vero Se io lo condivido su Instagram Facciamo un botto di view Che ospiti speciali Suo preso Instagram Se lo condivido Cioè il link, sì Ma loro vedono anche questa classifica Vedono questa classifica Allora, tra l'altro Frank sarà anche a maggio A uomini e donne Ah no Ma c'è il bel giovancio Alla prossima anno Ci siamo Se volete Cominciate a creare Il Francesco Il Francesco Official Ma chi è l'United? Francesco Allora abbiamo con la squadra Allora Metto qua Metto un po' più giù Per il Scusa Copro ciccio Non vorrei Non ti preoccupare Vabbè Allora Con la squadra Per la squadra Del Belgio Abbiamo Vedete le squadre in grafica Comunque Il Belgio Sono i secondi in grafica Diciamo Che abbiamo alla sinistra Dario E accanto a lui Il punto ciccio Che sono loro due in grafica Se vuoi Se vuoi raggiungerlo su Instagram Francesco Barcellona Mentre Per il Manchester United Per il Manchester United Abbiamo Melozzo Aspetta Aspetta che giro Allora Un attimo piano piano Eccolo qua Melozzo Più Più Javier Javier ovviamente Salute Salute i fans Poi le altre coppie Sono Gabriele Che presentiamo qua Ok E me Giocherà in squadra con me Visto che io sono una pippa E lui è fortissimo E poi c'è L'altra squadra Che sono i terzi in grafica Che in questo momento Non ci sono Però verranno Stanno mangiando Stanno mangiando Vabbè Direi che possiamo lasciare così Allora Io in realtà Volevo riprendere tutti quanti Però Non sono belli Quindi Vabbè Ripendiamo da loro Sono più belli Vabbè Volevo che perderanno Ma io Ok Metto un po' più Io nel frattempo Gestisco i commenti Col telefono Vediamo se qua vedo Allora Javier Maddog dice Javier Prendi Junior No è La squadra Junior Javier C'è No è FIFA Non è Drago Vabbè Vabbè Ci siamo Ci siamo Ma che postazioni Gioco Che postazioni Gioco Che postazioni Ma che postazioni Che mi sono affidato Che Mi sono affidato Ci siamo Ci siamo Non lo so Vediamo Ma avvicini il microfono Guarda con me Io mi sono affidato a Melozzo Per le relazioni Ok Quindi Ora mettiamo Subito a Belgio Tutta la cronaca La cronaca By Ciccio By Ciccio Eder Allora Eder Lo zingaro Non è prestato da nessuno La dritta La mette in mezzo De Gea Troppo facile per lui Buggato da morire Però vabbè Già Vedo Lo vedo Lo vedo in confusione Questo Manchester Spamando un po' la live Arbitro fa blocco Raggia Lo prova a raggia Ma noi siamo Subito Ma raggia Siete voi Simone Barone Ha scritto Succhiatemi il pene No Lo mostriamo E poi lo buccia Simone Simone Barone Scrive Succhiatemi il pene Ciao simone Ti vogliamo bene Ti vogliamo bene Ti vogliamo bene Ti mettiamo in time out Sì simpaticissimo Nel dubbio Lo mettiamo in time out Hai sentito eliminato Sì Deve essere una live pulita A meno che non lo vogliamo noi Per tutti gli spettatori Barone non è l'ex Palermo L'ex Palermo L'ex Palermo Sì L'ex Palermo Chevi Famoso per quella corsa In ultima C'è 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 il risentimento C'è c'è Per questo c'è Giulio è un orco Allora Marco vuole che giochi a Fortnite Marco vuole che giochi a Fortnite Marco Zambito Ciao Marco Salutiamo Non dobbiamo fare i nomi Salutiamo Marco Zambito Fai su Raggio Fui al secondo palo Ma al terzo Il terzo lo metto io Terzo nello Terzo nello di Luca Oh dieci spettatori Alzo del bariceno Eh torna importante Torna importante Ma infatti Quanto siamo Siamo allo sta Fentino Forse andate a creare fuori gioco Può essere Ma che ci siamo Bobà Verde palla Bobà No Tificamente Ci sta Ah il velo Sì che c'è Ok Matic Romelu Sì che c'è Un po' di culo Un altro po' Un altro po' Miquitarian Oh attenzione Il gol Si sblocca Il risultato Assegnato Miquitarian L'ha messa dentro lui Ma quanto culo Vicciotti Ti vediamo il gol Ti vediamo subito il replay Rivediamo il primo È conto Dentro Miquitaria si fa trovare pronto La butta dentro Era lì Era lì Ma che stiamo indietro La bar non c'è La bar Guarda casa Questa Allora Aggiorniamo qui Adesso Bravissimo Passala Ok Luke Show Luke Show Attenzione Passa tu Bravissimo Da ripasso Vai Via Come gioca questo Manchester Champagne Tutto lì Mi faccio C'è 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 Sto scrivendo i risultati Per adesso Ragazzi Se apprezzate questo belgio Cercatemi Spolliciate Spolliciate C'è un Lukaku Bomb Madonna Mamma mia Stava trovando Che poi giusto Lui su Miquita Non doveva segnare Non poteva segnare Lukaku Tu dici Restare normale E' Mesh 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 Ah bene Oh Intervento Leggermente C'è 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 Al limite Del Votto falloso Ok Il mio votazione Dove vi ricordate Vabbè Se ne prego E' Torna il ventesimo Ora spunta Sì Vetti diciottesimo Tu diciottesimo Sì Più figo E' più figo Il mio votaggio Secondo me Si si arroccano Che si chiama qua Che Ma senza personalità Questa pagina Parla lunga 1 a 0 E' catenata E' catenata C'è fatto Ok Dovevi cambiare Vediamo se Votto all'italiano Ci avete scoperto No Dovevi spuntare Risultati in grafica Uuuu Bellissimo Guarda L'inserimento di Pogba Dovevi spuntare Sì Che bello Dovevi spuntare Sì Che bello Eccolo qua Ma noi cosa abbiamo In basso Doveve lo prevedere Guarda spuntare In basso La scritta Con in basso Ah ok Bobà Rigioco Fallo Fallo Allora Ok Ciao Chris Ciao Chris Non ti preoccupare Del ritardo Le feed Vabbè Le feed Non partono Youtube Lo sappiamo Come è Ciao Benvenuto Benvenuto Oh è fighissimo Così Ah c'è Il ritardo Di propagazione Ottima Così E' Vabbè Nooo Ti vedi Ti vedi Non dico Ci vedi A posto Ah sì C'è Mi metto Ok Perché c'è la tv Lì Quindi ho Forza Che non Bello Ma i buffoni Perdono 1 a 0 1 a 0 Stanno vincendo Quali buffoni In che modo Oh c'è pure Minutaggio Che sputa Grafica Non l'ha capita Amoridio Non è capito Però perdiamo Guarda 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 Di prima Rushboard Di prima Oh È incredibile È incredibile È La Bamba Di Giaviero Di Giaviero Ma quanto culo Adolito Attenzione Quanto culo Quanto culo Quanto culo Ma hai visto Che culo che ha Adolto Ha segnato Ho sentito L'ha sentito Giordano Era Pogba Un lupato E questo È Merte Minuto Era tipo 39 mesi Non ci metto C'è 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 Allora Aggiorno Non sbagliato E questo è E questo è E questo è Romelu Eccolo Sì Sì Smole Aggiorno Aggiorno I risultati Ok 39 mesi Non c'è Non c'è Tranquillo A posto A posto Dovrebbe essere Aggiornato Aspetta Qua Oh calcio di rigore È calcio di rigore Attenzione Polizione Sono strano Chevin Goal Andres Stai perdendo Manu No Non sta giocando Manu Andri Goal L'ho scritto Goal No Traverso Salaggio Sul Belgio In questo match Un po' di culo Un po' di due traverse Per noi Però Non fa niente D'altra parte Quattro rimpalli Per loro Ok Vabbè Ci siamo Abito Non apriamo Non volia Non volia Un altro C'è Un rimpallo Ecco Ecco È arrivato Appeniente No La sto passando Ti giuro Dice che stanno Parlando di buffoni No vabbè Ci sono tanti buffoni Che ci sono Ma chi è Chi è che dice Andrei Ho detto Siccome hai detto Che stanno Giaciando di buffoni Stanno parlando di buffoni No Andrea Hai di sapere La gelosia L'invidia Mi fa la due Anzi sì Cicero Giusto Giusto Non mi sbaglio La Juventus Sarà un intercampionato La prima persa Ma che è sta grafica Che ci avete metto Quella che io so io Ma che è colato Di gioco Di gioco Ah ecco perché perdiamo C'è 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 E' mezzo E' mezzo E' mezzo E' fallo Ah la grafica Si è ambolato Ricordiamo il punteggio United di vantaggio Per 0 a 2 Con cosi Lukaku Eh Che Boba E' militariano Scusate Lukaku 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 Ultimo Che ci sto Che ci sto Traversa le hai vista Diagerio Attenzione Davide Precciatine Attenzione Lukaku Sauro Madonna Oh E' il dominio, si è andato pure il show! Riccardo ha domando, ciao Zed, se è mio youtuber preferito, siamo bravi Eh si va bene, ma no, dopo lo show non lo so Grande lì, grande lì Questo è matto, l'ha posto da Matteo L'ha posto da Matteo No, la posto da Matteo Sento shock al minuto 57 Mamma mia Ma come vinci tornare? Ma come vinci tornare? Ma c'è qualcosa che non vedi Non mi convinto Ah, è giusto Shokes Cosa? Alcune cose, alcuni video per fare visualizzazioni di sole è top Alcune top di cosa... Sì 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 Anche di... Gira a balla questo bene Tipo, top 5, salve per mirare Sì sì però attirano tantissimo E' un contatto fossero dubbi Fosse dubbio Fosse dubbio Fosse dubbio Fosse dubbio La barba, eh! Si è una ma... Alla forma da barba, è stata un po' razzista Qua niin, ha fatto razzista Per quanto riguarda la... È nel cosiddetto 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 Si sta, ci può stare Si Guarda dove hai messo, hai ora... un quarto da una partita Giorgio mi raccomando rompi il culo a Manu peccato che siano la stessa squadra attenzione Marcus Rashford Marcus Rashford 4-0 mamma mia la prima rivediamo il gol non è vero l'emozione della diretta mamma mia al sessantasettesimo mi ha leccato il cane al sessantasettesimo il cane ah il cane non siamo volcani è indemoniato questo United mamma mia ma quanti minuti è? 4-5 5-5 quasi sono almeno 3 se non di più ora vediamo e cambiamo ora vediamo vabbè la serata è lunga gran gol di Lukaku ho aggiornato la madonna ok ho aggiornato la grafica no che a me tu un tiro l'hanno fatto un tiro voci di corridoio attenzione peccatine verso il Belgio che è esatto il Belgio poi si a Belgio voi vedi a Talanta noi chi siamo questo strano torneo tra squadre nazionali europee sono due inglesi una italiana e una nazionale una barzelletta un po' inglese il padre metter l'email e la password un po' inglese di Maggio che piedi belli ma via il Manchester in confusione totale abbastanza abbastanza mentre vince 4-0 soprattutto raggio zingaro lo chiamano prima ragazzi prima della partita raggiù l'ha detto lo batteva la tua ricorda l'ha detto lo facciamo l'ho due volte non lo vedo ci sei ci sei attenzione forse c'è qualcosa che non va nella fine del belgio vedo non lo so c'è qualcosa che non va nei cosismi interni no no mi sembra abbastanza affiatati esce Michiterian esce Michiterian entra qua matta lento lento al giudizio di Malozzo non va non va non va non c'entra nei piani vabbè a meno lui si può scrivere subito nei gol mi chiederanno un po' come questo come scritto questo il belgio però ha fatto un po' troversi mi sembra ho visto ho visto una pericolosa però forse lo United forse è un po' fortunato attenzione Valencia Valencia un po' un po' un po' 5 a 0 5 a 0 è diventata quasi come eh ancora United insaziabile mi ha detto io il tuo non glielo la passo insaziabile insaziabile Antonino Antonino Valencia All'86esimo Tensione Valencia Alla Caldara Si pensa già alla prossima partita In casa Belgio Partita da dimenticare Che c'è che c'è Io gioco solo in bocca E' azzato Grazie forte con la Caraccio con la Aggiornò subito Per lì non si può Grazie mille Si Noi siamo abbastanza altruisti Come in gioco Ci troviamo benissimo Ci siamo Si si Pappa e ciccio con l'infamaggio Giorda Giorda Cugina Che è che ha messo non mi piace a questo video Qualche Non ho visto esiste È giusto che basta basta Se ne vanno Se ne vanno No ma è nessun problema Si è segnato L'ha segnato Lukaku Guardi con l'hanno Rivediamo Rivediamo Mamma mia Questa è il calcio Guarda il calcio Mamma mia Ma non c'è rio Non c'è rio Mi hai rossato Tu qua con il novantesimo Mamma mia Ma tu l'hai rossato Ricchi mi hai fatto il rossato da sotto Tutto buco Ringrazio Io pensavo Io pensavo Guardi che comunque le statistiche erano quelle Sono almeno Ma diciamo che già il senso Forse basta Guardalo Guardalo Ci sei Mello Mello La impressione C'è una intervista Se vuoi si Sì Sì Vabbè dico Magari Mi serve qualcuno Che fa qua Ti insegno se vuoi Ogni volta che ti faccio un gol Fai vai qui Io dico Qua chi ha segnato Vai avanti con lo spazio E metti la partita Fai per esempio Questa è Atalanta Quanto c'è Atalanta Ce la prestiamo A vedere la seconda partita del torneo Atalanta-Celsea Alla prima scrive Atalanta-Celsea E poi il mercatore Sì Le squadre in maiuscolo E il mercatore in minuscolo Io volevo pubblicitarmi Fai il file Io volevo pubblicizzare La mia passione C'era Guardate che disegno Ma fattore Se ho fatto anche molti altri Se voi Ho avuto Di ferri Su richiesta Voi dite che volete E' Atalanta-Celsea Ci sono un mercatore qua sotto Bellissima Se no i marcatori là Eh lo so questo T'ho detto Ma non le ho visti Poco fare No ma c'è No ma c'è Ora arrivo C'è C'è Atalanta Eh beh poi fai il risultato Cambia a seconda del risultato C'è Atalanta-Celsea E poi fai il nome del marcatore Dico la prima letta La maiuscola Poi il minuscolo E il minuto E poi quando finisci Fai il file Salve E poi fai la prima giornata Poi ci sono i commenti I commenti te sono Tutti ho qui Devo leggere per i commenti Bella Ricky Scrive Riccardo Con Manu Dice che stanno perdendo Dei buffoni Oh grazie Mi sa chiedi Aspetta 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 C'è il nostro Francesco Barcellone Alla chat Se potete chattare con lui Anche in privato pure Servizio a domicilio Organizza anche Cressime Battesime Sala ricevimenti Il suo cuore batte verso Fia Qua c'è la coppia Con Zerdas Gabri Bars Contro Per riaprirlo Fai Windows Ernota Di nuovo Contro Giorgino Contro Giorgino E Manuel Tu la dove Ah di guardare Di là Giusto Allora mi è top in qua Ci sentono Mi abbasso Mi abbasso L'Atalanta Che si schiera 4-3-1-2 Davanti al momento C'è Monachello Titolare Monachello Gomez Vediamo per chi opterà Difesa vediamo Una difesa abbastanza rocciosa Difesa dell'Atalanta abbastanza rocciosa 4-3-3 4-3-3 5-2-3 5-2-3 5-2-3 Fa tutto Giovane e Bacellona Talento purissimo Mi dicono la regia Difesa abbastanza rocciosa Difesa rocciosissima Con Atebor Masiello E Drameri Spolverato Davanti forse ci sono Gomez e Monachello Ho visto bene Gomez e Monachello Non so se è corretto Giusto Monachello Metto io qua sotto Monachello preferito sia a Petagna che a Connelli Così mi sento Attenzione subito Cambiano tutto Perché il microfono non mi chavo Lo posso prendere in mano Scusa Ah pure Per cortesia Chi sono io Ah sì Mi arriva Perfetto Allora Adesso Alla telecronaca Javier Al commento tecnico Melozzo 96 Melozzo 96 Autore di 3 gol La scorsa partita No vabbè È stato un collettivo Ah è stato un collettivo È stato un collettivo Grande coppia Grande coppia Coppia Allora Giustamente siamo seduti in panchina nella vita reale In panchina insieme Sempre in panchina Una vita in panchina Una vita in panchina Sì 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 Attenzione Attenzione Fabregas Veramente brutta questa giocata Veramente brutta questa giocata Abbastanza brutta Indecente Manuel Zaccarella Incredibile Vediamo qui A Spiliquetta La passa a William William Conleva avanti William William In mezzo a tiro E' gol 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 Che ha segnato ragazzi Che ha segnato Diego Costa Diego Costa Messa file Sei andato file Aveva i tasti sbagliati Era messo Sì però io ho visto anche Una bicicletta da ultimo uomo Del Papu Gomez Anzi due biciclette del Papu Gomez C'è stato un mancamento Al limite del rigore E quindi si è atterrato C'è stato un DCV Che è successo Che è successo Il cugino Il cugino Il cugino Il cugino antres Magari al tuo cestero Magliere salvataggio Attenzione Grande intervento qua Di Rudiger Se non erro Di Zerdas Sì Fabregas Un grande Chelsea Ragazzi Alvo stand for Bridge Il 4-3-1-2 Giusto C'è C'è Chi c'è Trequartista Ilicic Dietro a Monachello E Gomez Forse Abbiamo messo Cornelius All'ultimo Cornelius L'ha spuntata No 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 Sempre Monachello Confermato In mezzo Che dice Francine Turnover Turnover in attacco Perché mercoledì Giovedì c'è Chi c'è Ah il Borussia Dortmund Ah quindi per questo Papu Gomez Numerello Incredibile Ilicic È un'Atalanta Che gioca sul velluto Nonostante lo svantaggio William Imbarazzante errore Marco Zambito Sembra Marco Zambito Morco L'allenamento Kurtic Numero sulla bandierina Attenzione Attenzione Al colpo di tacco Di Caldara Ma chi era È abbastanza imbarazzante Adesso Palla lunga E pedalare Ci sono Kant e Fabregas Che fanno da schermi Davanti la difesa E poi il tridente Da sogno Con William Hazard Diego Costa Attenzione a questa palla Dentro Per Monachello Ragazzi Attaccante L'attaccante Attaccante Che girava Tra Palermo Bari Adesso In forza L'Ascoli Tra l'altro Hazard Grande aggancio Punta Tebur Colpo di testa Diego Costa Beriscia Si accartoccia Sul pallone Si accartoccia Tra me Tra me Riscoperto Tra l'altro Non giocava Titolare Da molti anni Kurtic Perde Il pallone Attenzione La palla Che arriva Nella zona I Monachello Monachello C'è solo Il Papugome Incredibile Il pareggio Dell'Atalanta Con il gol Che ha segnato Ha segnato Giorgino Che ha segnato Manuel Manuel Zagarella Ha segnato Ragazzi La dedica La dedica La facciamo Non la facciamo La dedica Dopo Dopo Facciamo la dedica Chiedo scusa Quindi il pareggio Quindi il pareggio Del Papugomez Sull'assist Di Monachello Può essere Proprio lui Hazard Serve Marco Salonzo Lungolinea Ancora De Nasar Restituisce Comunque è una Atalanta Che sta cominciando A prendere campo Che dici Ricky Abbastanza Si vede Appunto L'interessamento Quello che sta facendo Stanno andando a foto Stanno andando a foto Stanno andando a foto Ilice Cilventa Ilice Ci si ferma Ma c'è il solito Rudiger Attenzione Piano 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 Froyler Remo Giocatore Abbastanza Una sorpresa Per quest'anno Remo Froyler Da sei e mezzo Sei e mezzo Sempre Trano sei e mezzo Remo Froyler Attenzione Ilice Invenzione Com'è Kello Com'è Kello Dai Ma cosa ho fatto Mi c'ho Se l'è forzata Con il tacco Gaetano Gaetano Monachello Forza L'Ascoli Ricordiamo Forza L'Ascoli Sì signora L'Ascoli Ascoli Ascoli Piceno Ascoli Piceno Attenzione Ammunizione Per Diego Costa Barbato Diego Costa Non l'ho toccato No Diego Costa Che manco Lui sa perché Lì Aspetta che Vorrei Sottolineare L'importanza Di lanciare I giovani Come Monachello Anche alla Playstation Quanti sono Non so se hanno scritto Qualche cosa Dalla live Magari ci stanno Parlando Froiler Mezza 3 Poi serve Sulla destra Tebur Lungoline Ma che gol è Una meraviglia Jasmine Kurtic Jasmine Kurtic Azione Meravigliosa Dell'Atalanta Atebur Che serve Sul figlio Del fuorigioco Monachello Dentro Per Jasmine Kurtic Che deve Soltanto Mettere Dentro Un'azione Un'azione Magica La proiezione Nello spazio Questa è stata Studiata in settimana Questa mossa Jasmine Kurtic Lo sloveno Il 2-1 Dell'Atalanta Derun Avanza Derun Un'altra finta Rischia tutto Derun Occhio Occhio Perché Cioè Si parte Per Hazard Hazard Entra in rigore Mette il cross C'è Diego Costa Avanza Willian Incredibile Incredibile Si impegna Averiscio Incredibile L'errore Di Diego Costa Porta vuota Colpisce La traversa Invece No Era tornato Sono Spettatore Vabbè Non sono io Spettatore Molto bene Molto bene Ci siamo Ci siamo Una che Allo Dentro Ilicic Tira le stelle Ilicic Non ci si crede Ragazzi Non ci si crede Si traversa Poi colpo di testa I Willian Poco fa Fine primo tempo Tornati Celsi che si era portato In vantaggio Dio Costa Poi il pareggio Del Papu Gomez Poi il 2 a 1 Finale Il finale primo tempo Sigla Jasmine Jasmine Kurtic Ehm Aspetta Aspetta Guarda Guarda L'ho visto L'ho visto C'è scritto C'è pure giusto Che passaggio Ha visto Che gol Poi Che gol Ci siamo Ci siamo Dai bella partita Bella partita Cosa hai detto Preparati Preparati Che porterà Quanto c'ha le fam Disco 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 La prendiamo Occhio Occhio Ora Ora Cosa fa fare Malo Malo C'è dal limite Kurtic Finta Occhio Quero dentro Occhio Quero dentro Kurtic è solo Courtois 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 Mamma mia Che intervento Tipo Courtois A scuola Gank Poco fa Ha pareggiato Momento di distrazione Ha pareggiato William con il sinistro Tu per tu Col portiere Incrocio Bellissimo gol Attenzione Dramè Dramè Doppio passo Va in mezzo Numero Purtroppo Non c'è VAR Questo torneo Quindi Rigore non c'è Parte Hazard Da solo Salta tutti Hazard In mezzo Per Diego Costa E fuorigiocola Purtroppo Purtroppo La barre Ripeto Non c'è Le mazzette Attenzione Masiello De streggia Per Dramè 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 Incredibile Yasmin Kurtic Con la suola Sbaglia tutto Riparte Chelsea Con Hazard Parla per William Dramè Roccioso La prende sempre Lui Kurtic Per Remo Freuler Remo Remo Monachello Per Monachello Davy Lewis Monumentale Questa azione Cantè Passa a William William che deve 1 a 2 Lo prende Lo riceve Fa solo in attacco William 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 Attenzione William Sempre lui William Sono la passa Se ne fa solo Il mento Il costo 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 Incredibile Di ingolocante Cosa ha preso Matteo Cosa ha preso Una grandissima Giocata Di ingolocante Che Oltre a recuperare Palloni Ogni tanto Fa anche Questa giocata Di qualità Bravissima Ingolocante Sfortunato Sfortunatissimo Attenzione Avedo William A terra Vedo pure tonoio A fine di sopra Gang bag Incredibile Dagli il colpo Di grazia Colpo di grazia Non si sa con cosa Però colpo di grazia Incredibile Kyle Per fabre Gas C'è ancora William La terra Chiede l'1-2 Con William Lo riceve La passione Incredibile Guarito E' guarito William E' guarito A un certo punto Senso del gol Terun Terun David Luiz Si trova in attacco Non si sa il motivo Diego Costa Per William Sembra un po' Ciaccato William Magari Si riprende Non si sa Che cambia C'è Pedrito C'è Pedrito Pedrito C'è il valore Pedrito nazionale Kurtic Derun Il passaggio Il passaggio Il passaggio C'è Occhio a centro Derun Gran finta Ancora Cantero Sempre Derun Non va Ancora Trafroiler Derun Sa palla che resta lì Kurtic A giro Rudiger Tony Rudiger Antonino Rudiger Con la rudezza Cantè Immenso Cantè Una giocatrice più forti Di questa Premier League Esatto William William Per Hazard Inserimento di Alonzo 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 Sparata di Sportiello C'è una dalla regia Alessandr ciato Antonio Conte Attenzione Alessandr ciato E si qui dalle panchine Eravamo con Antonio Conte Ci ha detto che Lui quando è arrivato al centro Si chiedeva solo un giocatore Cantè Grazie al ciato Per la tua considerazione Cambio all'ottantesimo Incredibile Canzone Entra Cornelius Per Per Monachiello Esce Kurtic Ed entra Spinazzola Alla dentro potrebbe essere Lo fa tutto Ma Caio Co Per Fabregas Stanco ormai E poi c'era Morata Perché non l'ha messo Lui fa tutto C'era Morata C'è una munizione per Massiello Andrà Massiello Andrà Massiello Uomo del Fantanato Massiello che tiene sempre William Il papo Sempre dentro Luigi Davide Luigi Davide Te ne spalla Bob Lo chiamavano David Luiz Sempre entrare con la palla dentro Esatto In cantero Attenzione Dentro Per il liceo C'è Ballo Cornelius Goal 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 del vichingo Carnelius Andreas Cornelius Un sinistro Lento ma preciso Che batte Courtois Per la terza volta Atalanta in vantaggio Allo Stanford Bridge Direi Bene ma non Benigni Direi Bene Fredura di Melozzo Non apprezza Frank non apprezza Non apprezza Dalla regia Vedi Melozzo Che cosa è questo? Non ha risposto Ancora Provoco Andremo a rivedere la chat Mi raccomando Scriveteci Cornelius Tenteremo di esaudire Le vostre richieste Scriveteci Molto bravo Brasile E' un'Atalanta che Si sa difendere molto bene Occhio questa gran palla Per David Luiz Berisha Berisha L'Atalanta D'esperienza Cornelius È finita È finita Atalanta batte allo Stanford Bridge Chelsea per 3 a 2 Ha vinto lo sport Ha vinto lo sport Un bel gioco La pizza da sport Ha vinto lo sport E anche lo scuro di Manuel E scuro Manuel lo chiamava Ho fatto 3 gol su 3 Ah vabbè Gran giocatore Gran giocatore Andiamo quasi tutto a posto Eh vabbè Sfida per l'ultimo posto questa no? Vabbè Grazie a Talanta Vabbè Grazie a Talanta No no Posso Vamo vish e vish E il papo No senza voce Oh mia Che va venire Parla sul microfono E DJ Matrix Mi tocca correggere tutte le vostre Ma non ti vede la faccia Occhio la pizza è tavola Andiamo per te scontato E mi sa che sta lavorando di nuovo No no Qual è la partita? Come ti fa a giocare? La partita qual è? Chelsea 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 belgio Chelsea belgio Anche qui ci sono giocatori in comune Ci saranno due azzardi Due muson Due azzardi La classifica Quando gioco io E poi come si fa? Cosa? La partita è la partita No La partita è la partita La partita è la partita E' la partita è la partita E' la partita è la partita Boh io non lo so Come si aggiornano le squadre Le squadre non si aggiornano Sì no si aggiornano nel senso che Ma lo devi fare Di una torna Da aggiornare E' la partita Ma cosa è di Sì E' la partita è la partita E' la partita è la partita Ciccio Ti ha scritto Ciccio Ciccio Barcellona Ricordiamo Ciccio Barcellona Su Instagram Come ti chiami? Francesco Barcellona Francesco Barcellona Franci Barci Franci Barci Bianche e nero se non sbaglio C'è l'orso C'è l'orso Se hai trovato un grizzly E' Frank E' Frank Franci Barci Vabbè la cauda è libera Dato da cercare subito Non è bloccato Giusto? No A porta aperta A porta aperta Tiro a postanità Sì sì Poco fa Willian ambulanza per Willian Sarà ricoverato Che è successo? Vabbè dico C'è Pedrito C'è Pedrito Molto carico Douglas Costa Ma Costa non l'aiuto Ah quindi Subito un problema Per il Chelsea Ambulanza per Willian Costetti a cambiare Willian per Douglas Costa Che è ancora al Chelsea A quanto pare Quindi va bene Douglas Costa Attenzione Attenzione Grattiamo Ciccio Barsa Ci cantiamo Va bene così Ciccio Ora devo giocare Intrattenete voi Va bene Va bene Ci siamo Siamo tutti carichi Il team Il team Carico Ci saluta Ciccio Ciccio Cangemi Ciao Ciccio Cangemi Ciao Ciccio Cangemi I tasti sbagliati I tasti sbagliati Sì poco fa Scusa dei principianti È stato scambiato un classico Per un alternativo Cose così Personalizzati Due tasti Vogliamo fare il sondaggio C'è qualcuno che gioca con due tasti Allora c'è un commento ignorante È sborona abbastanza L'Atalanta da lezioni e lo Stanford Bridge Il sondaggio c'è qualcuno che gioca con due tasti C'è la variante due tasti Passaggio e tiro Passaggio e tiro Vogliamo rispondere all'ultima domanda Allora l'Atalanta da lezioni e lo Stanford Bridge L'ultima affermazione volevo dire scusate Di chi è la possiamo Un anonimo Un anonimo Zagarella ci scrive L'anonimo L'anonimo del sublime L'anonimo del sublime Allora ragazzi Poco fa c'è un gattino pure incontenibile L'Atalanta che ha vinto allo Stanford Bridge All'ultimo grazie al gol di Cornelius Il vichingo Il vichingo è entrato dalla panchina a posto di Monachello All'ottantesimo All'ottantesimo Marco Zeta incontenibile Allora salutiamo Marco che è a casa della nonna Ciao Marco Ciao nonna Ciao nonna Stasera il menu che prevedeva Marco scrivici in chat Te sei magnato pure a me Sì sì no C'è il sondaggio Attenzione Subito traversa di De Bruyne Tre traverse in due partite Show del belgio Sfortunatissimi Sfortunatissimi L'Azzard entra nel rigore L'Azzard Impiega Courtois 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 che parà da una parte e dall'altra Lo ricordiamo Attenzione Attenzione La nonna ci saluta La nonna saluta Ricambiamo Scrive Ciao nonna Ciao nonna Saluta Antonio Dice la nonna Saluta Antonio Attenzione A Mertens Contro Contro La difesa del Chelsea David Luiz Marco Salonzo Fermato da De Bruyne De Bruyne avanza Pasta al forno Pasta al forno Pasta al forno E carne varia E carne varia Leggero Morata è solo Morata Tipo Courtois Parà ancora lui Poi Hazard la tiene in campo Il cross di Rabona Meraviglioso Che giocata di Hazard Marco Salonzo Guarda ancora in mezzo C'è adesso Locante Palla che resta lì Un bel gioco Che riparte Con l'altro Hazard Ci sono Ci sono due Hazard E due Courtois Contemporaneamente Mertens E forse ci sono anche Due Bashoi Pasta al forno Le cose giù Scusaci Marco Scusa Basta col forno Grazie Morco C'era il forno Dentro la pasta C'era un forno Il forno cos'era Ariston Oppure Che marca era Melle Gatti forse Melle Gatti Melle Gatti Suggerisce Melozzo 96 C'era 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 Esiste esiste E' un Chelsea che ci prova Adesso con Pedro Morata Morata schierata al posto di Diego Costa Quest'oggi Davanti a Serce Munier Lo ferma Thomas Munier Bravissimo Carrasco Carrasco Nainggolan Roventa 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 Dicono Bravo Bravo Roventa Il forno Era Roventa Partita molto contesa Centrocampo Molto Roventa Assolutamente Roventa Sponsor ufficiale Del torneo di FIFA 18 Corrente Diciamo Allora Morco Un'impressione Su queste squadre Impressione dalla chat Ci diciamo che non c'è Il tuo benevento Di Armenteros IML Mi dispiace Non c'è C'è il dubbio Lombardi Parigini No Qua ci sono altri generi Live Salutiamo i tre spettatori Iscriveteci le vostre impressioni Su questo torneo No non è vero Se volete vedere Marco Salonzo punta Ditelo Scriveteci qua Non faremo Perché cambio d'attico Oppure Oppure Azzardi in porta Possiamo fare Quello che volete Allora va dall'altra parte Per Pedro Che caccia il mono Una giocata Da mille Una notte Da sogno Marco dice Che mancanza Che mancanza Il benevento Dice Marco Zambito Dispiace Dispiace Io lo dico in live Ve lo dico Ve lo dico Quello nego Il benevento Si salva Benevento si salva Vediamo se questi tre Ci credono Ci credono Ci credono Attenzione Marco Salfonzo Marco Salfonzo Punta Attenzione La sblocca Incredibile Incredibile Morata La sblocca per il Chelsea Alvaro Morata Un'impressione Il gol Chi l'ha fatto Zerdas O Gabri Bar Ha fatto Zerdas Va bene Ci chiedono Ci chiedono Dalla regia Ci chiedono Marco Salonzo Punta Ci chiedono Magari sul finale Magari lo vedremo Sul finale Con il suo sinistro Vellutato Attenzione Con il po' di testa Di Vincent Company Mamma mia Mamma mia Che giocata Non c'è nessuno Del Chelsea Attenzione De Bruyne Che in cerchio di centrocampo Prova a inventare la giocata Non trova nessuno Hazard Bakayoko Perde ancora il pallone Gli lo ruba Centrocampista del City Lukaku Si gira Nel sinistro Ribattuto Abbiamo sentito qui La voce di Franci Barci L'orso 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 Bruno Che c'è lui Bruno Attenzione Carrasco 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 guarda dentro Aspili Queta Che entrata Che entrata perfetta Mamma mia Origine romane Origine romane Di Cesar Sviliqueta Ragazzi Grandissimo Poi c'è Moses Fioraio Di Via Belgio Ma quali sono gli abbinamenti? Morco scrive Morata Morata Quali sono gli abbinamenti? Gli gli dici Gli abbinamenti Del Belosso Non li sono 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 Javier Con Munier Javier Con Eccezionale Che palo Intanto Intanto Tredicesimo palo In due partite Del Belgio E accoppiamenti sono Comunque Come vediamo In schermata Melozzo C'è sotto Chris Gritto Con Avier Avier Poi c'è La grande coppia Abbiamo La coppia L'Atalanta Bergamasca Formata da Giorgio Cangemi E Emanuelino Zagarella Poi abbiamo Il Chelsea Il Chelsea Di Gabri Birzellon Riccardo Di Lorenzo Zerdas E per ultima Ma non Ultima Anche se La classifica Non mente Ciccio E Dario Purtroppo C'è un'azione Cantè Allarga per Alonso Alonso La passa Hazard Hazard Di prima Su Morata Morata La passa Cantè Sbaglia Morata Ripartenza del Belgio Incredibile Tiro Tiro Sbilenco Di Hazard Che Non preoccupa Minimamente Curto E parte il Belgio Con Hazard Hazard per Carrasco Carrasco chiede l'1-2 Non lo riceve Luca Questo Aggiorniamo Quattordicesima Traversa Nel Belgio Non va Non va Non va È un Belgio Scortunatissimo Veramente Serve del sale Serve del sale A questo Belgio Serve del sale Che passa lì Sotto una scala Non serve Forse è uno specchio Un specchio rotto Gatto nero Era nero Quel gatto di poco fa Per caso Dice Marco Z Dice Emanuele Buffone Raga ma sto belgio Quanti legni ha preso 5 Le ha presi 5 Questavo in questa partita 4 Nella precedente Guida la classifica Legni Sì Prima In contrastata Rigore 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 Non va Non va Morata Morata Il pirata Morata Morata Il pirata Pirata Il morata Cantè Cantè Attenzione De Bruin Chievin Er prugna Si viene a strusciare Un pochettino Il cane si struscia Azzione Per Carrasco Mosis Il fioraio Due spettatori attuali Li salutiamo sempre Chi è l'altro Ragazzi chi è Chi siete Chi siete Ragazzi Chi c'è Chi c'è Ditecelo 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 Attenzione Ti vedi porno Dicono Simone Barone Simone Barone Dice Mostra Nasconditi E di porno Morata 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 Non è vero Mauri Quello è rigore Netto Adani Adani Sì sì L'abbiamo capito Un marziano Un marziano Martial Lukaku Lukaku Attenzione Gioco di gambe L'inserimento di Hazard Non lo vede Vede Mertens Ma non c'è C'è la malattia Come si chiama questo Buon figlio Azione Hazard Purtua che anticipa tutto E tutti Dove uscire prima Veramente Grandissima A tirare prima il ragazzo Il primo Ragazzo Vincenzo Malattia Grandissima interpretazione Di Melo Grazie Grazie Marco Marco Dai non mi levate Voi che siete simpatici Saluta Simone Barone Ciao Simone Barone Ancora c'è Inzaghi che ti aspetta Sei tu che aspetti lui Però è lui che ti aspetta Per risultare Soprattutto Poteva essere il primo Con l'Italia Nazionale Possiamo dire Io non dimentico Però dicono che Questo scatto è stato Forse uno dei più Inutili Esatto Intanto il Belgio Cerca di Iannick Ferreira Iannick Ferreira Carrasco Esterno Sinistro Della squadra Dell'Atletico Madrid Attenzione Palle e mezzo Morata Insieme ad Andrea Raggi Lo ricordiamo Andrea Raggi Si allenava con gente Con Camillo Glick Camillo Glick Camillo Glick Nazionale In quella Quella squadra C'era pure Condogbia Ricordiamo Jeffree Pagato 40 milioni Dall'Inter E poi Quei 40 milioni Siamo stati Reinvestiti Attenzione Se la mangia Se la mangia Attenzione Accoppiamento Fra cane e gatto Occhio perché esce La mandibola Esce Attenzione Pedro È giusto È giusto È giusto È giusto Simone Barone Ci saluta E lo so E lo so Inzaghi Inzaghi Simone Quando Bia fa schifo Simone Barone Dice bene L'importante è che sia finito Lontano dall'Italia Caro Simone L'importante è che Quando c'è la salute C'è tutto Ah è interista Simone Barone Dice che è interista Ah è interista Allora Ma meglio che Se ne è andato Puleggio Mario Giusto 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 Ci godiamo questo caramò Insieme Ce lo godiamo tutti Comunque bel gol Di ranocchia L'altra volta Non era paperissima Giusto Sprint Era paperissima sprint È interista No C'è le proprie cose Ognuno Dicono a Marco Quella porta stregate E prendere 17 pali In due partite Simone Un'opinione Sulla vincitrice del torneo Giustissimo Già Mario Dice ranocchia Venoma Assoluto Ranocchia Venoma Assoluto Vabbè Forse noi Talenti più potenti Del calcio mondiale Federico Buffa Racconta Ranocchia L'hanno fatto L'hanno fatto Signori del calcio Ranocchia C'è stato pure Signori del calcio Jonathan C'è ancora Jonathan Divino Divino Jonathan Zepinà 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 E d'altro Grieghera Vincete voi Credo Zagarella Zepinà Zepinà Simone Barone Si è espresso Vincete voi Però non ha specificato Forse 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 La coppia Potrebbe essere Che riconosce La voce Di Melozzo E dice Si può darsi Che cosa Diciamo Mario Ci ha fatto perdere La coppa italiana Giomario Parole pesanti Per Giomario 40 milioni Per un giocatore Meunier Non giocavole Meunier Mounier Quello È andato Bologna Atalanta Mounier Antony Mounier Antony Mounier Alla destra Adesso gioca Credo Nell'Olympiakos Si 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 è spostato In Grecia Questo è Meunier È quello del PSG L'Olympiakos Gioca Federico Buffa Racconta Storie mondiale Gabriel Paletta Oggi parliamo Il mio giocatore Più Patenti Brutto La stessa Il calcio mondiale Gabriel Paletta Parliamo oggi Oggi C'è speciale Noi squadra Non siamo squadra Da niente Per ora Parole forti Per l'Inter Senza Perisic Senza Cardi Aspettiamo Il ritorno Degli infortunati Diciamo Manca forse Maurito Non lo so Maurito Che non segna Dal 32 Però c'è Eder Che lo sta sostituendo Molto bene Forse se che andreva A zecchasse un cross Pure ogni tanto Se giocasse Se giocasse Non ci ricordiamo A noi piace A noi piace A belli A belli Ritem Ci saluta Ritem 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 Matos Sei tu Ciao Gio Mano C'è Ritem C'è Ritem Vi faccio vedere Ciao Bello Sì Gio Come lo fa Allora Chelsea Quanto è Fida Alla fine 1-0 Morata Alvaro Morata Il pirata Morata Che ha sostituito Degnamente Diego Costa Lo possiamo dire Ritem Ci sta seguendo Ritem Vuoi salutare Ritem Fatti vedere Fatti vedere Bella Bella Ritem Lo sappiamo chi è Lo conosciamo Grandissimo Ciao Giuliet Ciao Giuliet C'è un partitone Giocare Per la testa del girone Per la testa del giron Sgombata morbida Sessionale Sbagliato Sbagliato Una cosa dove imparo È piridia Però io non voglio Sto cosa È piridia Cambiere squadra Ma qui c'ho Poi giocare Il computer Che c'è più Io Giocare Qual è quello Dove sarei io Questo no Questo no A destra Deve andare Vuole giocare Con voi Metti in due tasti Metti Allora Come li aspetti Non c'è una A destra Funziona Non c'è una Classica No Classica Morata Al 27 Ok Ora faccio Ora faccio Pure la classifica Che non No Sto faccio Oh Oh Eh Eh Vabbè E' l'atalanta L'alzionata E' il signore E' il timore E' il Cimitato Metti gestione E' Ciao Avevo fermo Io Siete voi Vabbè Aspetta che Scusami Sì Sì I panzi I panzi I panzi No No Quello Si è scritto Granissimo Chi si è scritto Che cosa è scritto Chi si è scritto Ha detto Grande Franciae Scritto Chi è Chi è Ah belli Vai Franciae Ha scritto Oh grande Reader Ridem 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 Ma voi siete convinti che Rafinha farà un grande campionato Ragazzi Ah ok Ciao Simo Quindi parliamo un po' di circo Eh Posso mutare un attimo Un attimo Mutiamo un attimo Il microfono Ecco tornati Inmediatamente dice Chi è chi è chi è lei Carletta Siamo calmi Siamo calmi Allora C'è Carletta No no Ho già calmi Attenzione Incredibile Incredibile Dai perciò Dai 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 Carletta Puoi portare anche amici Se vuoi Oh Minchia Pure l'istruzione giocata Oh In quanto è estrogio Allora Io passo Tra ore di lavoro E contatti Ma Chi si fa La notte Ci potrà stare Benissimo Insomma Mamma Tutto pronto Da Beppe Bergomi Fabio Caressa Sempre la stessa persona Razzismo Intanto c'è razzismo Punti di penalizzazione No già l'ho detto io Quindi non penso Vabbè ma la mia ci stava La mia ci stava La mia era giusta Siamo pronti ragazzi Tutti i tre punti Dobbiamo di fare per il pareggio E' tutto pronto Si comincia Primo calcio inizio Del Manchester United Che fa girare subito palla Col Matic Vuoi dire Entrembe le squadre Hanno tre punti In una giornata Quindi questa Partita è decisiva Certo Anche se comunque Questo belgio Ci ha dimostrato Che è È vivo Nonostante le prime due sconfitte Mi ricorda molto La nuova Sancis Che è C2 Oh ragazzi Ogni pomeriggio Giochiamo alle tre Altrinacria Se volete venire Non abbiamo tifo Quindi Vi aspettiamo Numerosi Perciò Valencia La mette in mezzo Romelu Go Ma questa Atalanta Che Atalanta Partiva subito Bene Questa Atalanta Versione Europea Giusto Quindi 3 a 2 Avere il Maggio Se finirà Alciato Dalla panchina Alciato Cosa ci dici Un alciato È l'arrabbia Di Giampiero Gasperini Per questo Conso Ah ok Quindi Un Giampiero Molto nervoso Non come l'abbiamo Visto al club Nostro amico Ricordiamo Nostro amico Giampiero Romelu Beriscia Si 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 è formata Una coppia Veramente Pericolosa Si affiatata Che potrebbe Che potrebbe disturbare La capolista Belgio Che comunque Non teme nulla Come potrebbe Con questi pali Traverse Ok 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 Legni poterò Ridicicic Si restreggia In mezzo al campo Poi cerca Il buco Che non c'è Boba Forse no Non lo so Vabbè Non bloccano Ah la valla è bloccata No Lo dico Non bloccano Blur Non bloccano Mighitarian Che Atalanta Arrembante Questa Il mio gatto Impazzisce Sono un po' Raffreddato Quindi questa voce Un po' così Rigore Rigore Go 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 Beriscia Assist Oh Sembravo io Assist Che in realtà L'ho fatto due assist Ricorda L'ottoscri di Arterra l'occhia Mamma mia I colori Sono quelli I colori Quindi Io Stavo aggiornando La grafica Posto Aggiornato Allora Vuoi mettere i golli Allora Mi metti i golli Leggo Ok Chi c'è Forza United Scrive Simone Barone Attenzione Cambio Quel Manuel Oltre al razzismo C'è anche la blasfemia Scrive Riden Oh no È tutto lecito Tutto lecito Tutto lecito Poi Esatto Una domanda da parte Simone che dice Ragazzi per voi Chi è il giocatore Pi forte della serie Allora Chi è il giocatore Più forte della serie Ci chiedono Esatto Cioè Domanda Quanto Sciocca Tecnicamente Tatticamente Colore più scuro Tutto i tutti Dovan No No Vabbè Comunque Rattro Attenzione No Go Go Slatan Rushford Di naso assediato Di naso assediato Charlie tu che dici United squadra Seconda squadra La battere Seconda squadra La battere Ancora C'ho tante partite A disposizione Mamma che Che scarso Questo Mamma Che scarso Questo Mamma Che scarso Oddio Che situazione Potrebbe Trover Go Il rigore Il rigore La var La var Ma Cosa Ho senso L'ha trattenuto Il regolare Tira Tira Se le palle Tira Se le palle Mamma mia Attenzione Carla Scrive Carla Un saluto Ragazzi Ciao Ciao Carla Ciao Carla Finalmente Inquadriamo Charlie Charlie guarda qua Aspetta Ecco Ecco Charlie Ciao Carla Ricordi Marco Carla tu sei venuta In ritardo A inizio live Avete detto Aggiungi Francesco Barcellona Instagram Ciao Morco Ho scritto C'è Carla Saluta Morco A Vicenza Saluta la Vicenza C'è C'è Fairplay Tra gli spettatori Assolutamente Sì Ciccio Si conoscono Anche di persone Ah I due si conoscono Già Allenati insieme Simone scrive United Domina Scrive Simone Addirittura Non hai visto Questo belgio Simo Vogliamo dedicare Questi conti Sono per Simone Barone Che c'ha Sostanzitutto Esattamente Quindi Dedica Questo NOO Dedica Tiposo numero 1 Simone 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 Secondo te Chi è il calciatore Più forte Della Serie A Esatto Duvan Dio Non è segnato 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 Oh perché lagga Calidù 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 Ha lagato Ha creato una laggata impressionante E invece ragazzi Il giovane è più talentuoso Di questa Secondo me Che può Eh figlio Simone Edera C'è anche Minala Minala Ci potrebbe Anche Minala 17 anni 17 anni Il giovane Minala Sì Sì Di prospettiva Ma pure Frank Che sì Si indagava Su Frank Per me Douglas Costa Simone dice Beh sì È un giocatore Sicuramente È un giocatore Innovativo La Serie A Non ha mai avuto Un calciatore Come Douglas Su questo Ti posso dare Ragione Esatto Carla Invece Secondo te Chi è il giocatore Più forte La Serie A Carla Io Io A parte Gaviero Oh Carla Noi ti aspettiamo Al Trinacri A Stadium Comunque A tifare per noi Ok Dovrebbe essere Marco Grazie Dell'incoraggiamento Comunque Cominciamo ai ragazzi Io sono Pro Liverpool Non mi piace Il Magister United Buongiorno Il top è più care Ah man Mi leggo Mi leggo Sempre si è lotato Sempre si è lotato E comunque Piace anche Suso a Simone Eh Suso Tutti i mancini Però Suso comunque Sta cominciando a diventare Prevedibile Secondo me È un giocatore Che la Serie A Pure Fortissimo Krasic Però almeno Non c'è più La furia serba Anche Oliver Kragel In Serie B Non è forte Oliver Kragel Oppure Oliver Hutton Oliver Hutton Si è anche Mark Mendes Il tira la tira Il tira la tira Il tira la Oliver Ross È il principio La corrigliaccio Fuori di vetro Fuori di vetro Il tuo cane Fra Il mio cane È Charlie Si chiama Charlie Guarda qui Charlie Ecco Charlie Saluta Charlie Bau Bau Saluta Antonio Saluta Antonio Gabri vieni Ospite speciale Saluta Antonio Forse ha detto Hai un cane Parlava per Giorgio Marco dice Hai un cane Qualcosa del genere Lo porto io Lo porto Si chiama Marco Zambino Oh frecciatine Attenzione Questa pesante Cambiamo poi I protagonisti Di questa ripresa Esatto Questa faccia è spente Troppo lenta Cos'è che vi turba Ragazzi Da tanta Dopo aver È passato dal paradiso All'inferno Dopo aver condotto 3 a 2 Contro il Chelsea Ora si ritrova sotto Contro 3 a 0 Contro lo United Con 0 tiri in portafatti Vi dico alla regia Assolutamente No Ah ecco Fuori 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 Simone scrive Per me è sempre Forza Forza Mauro Icardi Forza Vandanara Vandanara Forse abbiamo L'interista Sì L'interista Confessato poco fa Chi è? Questa gran palla Dentro R Forse c'è Il quarto Oh 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 Un trofeo Mi ha letto Nel pentiero Dario Questo è per Simone Barone Ragazzi Che gol La parte di Herrera Mamma via Victor Herrera Quinta Manuel Marco Z Propone un quit Comunque Sì Onestamente Mauro Icardi In quanto vuoi È sempre Il numero uno Cosa stai dicendo? Cosa stai portando Porto? Forse qua dicono Manuel Dedicati a Fortnite Forse è più fortuna E se deve tenere Se deve tenere Perché non può Non può C'è Giorgi squadra Guarda qua Guarda che fa C'è un po' di Non c'è molto affia Porto lo zio Porto lo zio Porto lo zio Ah lo porto io Lo porto O lo porto zio Com'era? Ah è morto lo zio Diamo il triste annuncio C'è un po' di nervosismo Ecco il secondo Tiro in porta Qui vogliono Cascere lo zio Di Manuel Marco se tu venivi L'oggi lo portava L'ozio Però Perifich Perifich Qua dicono Per ora è in crisi E secondo me Sarà stanco Dal torno di pallavolo Dal campionato Di bici volle Con la Croata E anche la lite Con Brozovic Sicuramente Può anche Influire E secondo me C'è qualcosa Fra Perifich E Valdanara C'è qualcosa Da Seguilo Go Ancora Ancora Sempre L'Italian La manita United Stellare Saluta Manuel Saluta Manuel Saluta Manuel Non c'è Non c'è Non lo vede Ora lo aggiorno Sei a 0 K8 Cristante Attenzione Serpentina Attenzione Cristante Cos'è sta facendo Cristante Primo tiro in porta Per l'Atalanta E chi se dia vince E chi se dia vince Infatti così Ho detto che a 7 Si cambiano le squadre Oh Mischiamo le squadre Mischiamo le squadre Ora lo fa Ora lo fa E qui Vabbè Prima contro i morti Avete vinto Dai E io qua giocherei Atalanta Belgio Secondo me 1-2 Rapido E sta quittando E quitta No 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 Non l'ha quittato Non l'ha quittato Vabbè che ancora Ci può essere partita Ancora Può Mezzo secondo Sei gol E finisce qui Game over All'Azzurri d'Italia All'Azzurri d'Italia Che è 0-6 In casa Vabbè c'è ancora il ritorno C'è il ritorno Bu Non lo so No 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 Certo Vabbè Cosa Oh il Belgio Adesso tocca a me giocare Ragazzi Non mancate Belgio Qui hanno fiducia in noi Simone Cercherò di Fare 6 gol per te Simone e Barone che dice La Melo melo Questa chat che dicono Ruggero Magaluso dice Mi saluti Ti saluto Ruggero Ciao Ruggi Che squadra Che squadra tv in questo torneo Allora Salutiamo anche Simone e Barone Quanti siamo Quanti siamo Che ci seguono Siamo a Attenzione Attenzione Proprio lui Incredibile 4 spettatori 4 spettatori Sono tantissimi Salutiamo questi 4 ragazzi Non so se c'è ancora Carla La salutiamo 4 Ciao Ruggero Ciao Ruggero Ciao Ruggi Ma noi ci siamo conosciuti con Ruggero Ma comprando di Kadi Ma non c'era Ciao Ruggero Ciao Ruggero Giocatore più forte della Serie A Secondo te E a parte Elander Chiaramente Pinamonti Hanno detto E Duvan Zapata Sempre Duvan Zapata Con un Hatsky Ce n'è tanti Sempre presente Duvan Zapata Aspetta fammi un po' Mi sento sul gatto Aspetta no Mi sento a terra Mi sento a terra Che ci dicono dalla chat C'è qualcuno Secondo me Atalanta 0 a 6 Belgio Lico Giannis Pure è forte Secondo me Lico Giannis Ci descrivono Il solito Caralampos Lico Giannis In che ruolo Importa chi diciamo Eh vabbè Dicceli tutti Gero Tanto siamo qua Esatto Ruolo per ruolo È una notte di calcio Tanto Notte di calcio Notte di passione Notte di sport Di passione C'è tutto Questa ignoranza Marco Z Ci scrive Cappotto 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 Grande Morco Questo è per te Io è Melozzo Sempre Sempre presenti Anche questa sera Giochiamo Giochiamo ragazzi Noi all'antica Tanti passaggi corti Passaggi corti E poi PEM Iaquinta C'è stasera Iaquinta Nuovo modulo Per l'Atalanta 4-2-3-1 Con Ilicic Spinazzola Gomez Dietro a Petagna Ho visto bene Buffon Buffon Qua siamo d'accordo Tutti Non si discute Non si discute Difesa Gianfi Ci suggerisce Morco Miglior giocatore Difesa Bright Gianfi Il terzino del Benevento Morco grandissimo Centrocampo del Pinto Centrocampo del Pinto Ci scrive Marco Del Pinto Forse è passato Alla Virtus Entella Marco Non lo so Attacco Edera Edera Simone Simone Edera Però vedi che è un grande Centrocampista Un grande attaccante Per il futuro Della nazionale Centrocampo che ci dicono Segnerà Courtois Ci dicono Segnerà Courtois Perché Courtois Punta Può dire la sua Ragazzi Attenzione Del Bruine Petagna 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 è solo Petagna Dentro Per Masiello Derun 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 Marta De Morio Marta De Morio Va vicinissimo Alla gloria personale Che ne pensate Del fatto che L'Italia Non vede mondiale È un tasto Tasto dolente Molta colpa Di Zagarella Sicuramente Non Non ci è piaciuta La formazione Di Ventura Dico bene Bernardeschi Interno Centrocampo Per favore Contro la Svezia Ma poi Ci ricordiamo Signia in panchina È stato un delitto Per il calcio Può perdere Contro la modestissima Svezia Secondo me Lasciare pure Chiesa Fuori Dai convocati Fuori convocati Eppure è stato In conflitto con Buffon Certo Certo In conflitto con Buffon Per questo È giusto Allora dico Marco in attacco Vukovic Ah Vukovic Scusa Ma è divenso Che scherziamo Lui Da difensore Da difensore Lo so E Petkovic A seconda scelta È giusto È giusto Ruggero Secondo me Colpa Non solo di Ventura Ma soprattutto Di chi l'ha messo lì È Tavecchio Secondo me È un delinquente Lo ricordiamo C'è un mostro In nascondi Che facciamo Vabbè Lasciamo Ciao un Baffa Vabbè Si può dire Di Ruggero Macaluso È un precativo Verso Verso Ventura Lo lasciamo Non metto Né mostro Né nascondi Lo lasciamo È già Dove uscire Dal meglio Così Tipo Si si è giusto Ruggero È giusto Raja Intanto ammonito Beh Conosciamo un VIP Buttiamolo via Giusto Forse perché Hashtag Da vecchio delinquente Hashtag Giustissimo Da vecchio delinquente È bellissimo È giusto È giusto Come Babaluce Come Babaluce Da vecchio delinquente E' importantissimo Esatto Il giocatore Dice che dà soltanto Le banane E fa bene E fa bene Non sono parole nostre Attenzione No non è FIVA 17 È FIVA 18 È FIVA 18 Dicono È FIVA 17 È FIVA 18 Non è FIVA 17 Ruggero Spieghiamo Babaluci Per il pubblico Non terrone Eh ciccio Spieghiamo Spieghiamo Babaluci Per il pubblico Non terrone Per favore Le scargò Le scargò Le scargò Le lumache Le lumache I craissuna I craissuna Come dire Di dove siete Siamo Del capoluogo siciliano La terronia La terronia Di Palermo No no tranquillo Tranquillo Ruggero Tranquillo Di dove è Ruggero Ruggero Tu dove sei Da dove ci scrivi Da dove digiti Da dove digiti Che ha scritto Ha scritto che Pensava fosse FIVA 17 Di dove siete Voi ci dice Di dove siete Qua tutti i palermitani La parte La parte africana Di Palermo Diciamo Ah è pure di Palermo Simone E pure di Palermo Simone Barone Di Palermo Grande Simone Forza Palermo Marco Zeta dice Costant'è Costant'è Marco Zeta Ci digiti Da dove Morco Hai più coin D'una Caccia di Babbaluce Hai più coin D'una caccia di Babbaluce Ah Ruggero No Ruggero da Messina Simone Di Palermo Giusto Ah Ruggero da Messina Allora Forza Messina Forza Messina Perché noi Noi non dimentichiamo Il Messina Di Napoli Di Riganò Il mitico Riganò Che diventò Cabocannonè Nella Serie A Nonostante la sua scuola Forse penultima Aspetta Dio perdona Riganò Se mi consente Conosci Giorgio Corona Ex attaccante Cos'era Del Messina Storico Quel Messina Che speriamo Di vedere in Serie A Che ci scrive Da Lugano Eh Svizzera Ah scrive Da Lugano Ci chiedono Le amiche Svizzere Le amiche Svizzere Come sono Come sono le amiche Svizzere Ma poi Ma poi Da quale cantone Della Svizzera Ci scrivi Perché La Basilea Non lo so Sion Lugano Perché noi conosciamo Zurigo Ginevra Costanza Soprattutto per le bollette Attenzione Perché Lugano È da solo Lugano Incredibile L'infamata E Riganò Il primo gol Del Belgio Il primo gol Del Belgio Dio perdona Ma Lugano Ah Lugano E nemmeno Re Arturo Sì infatti Lugano Grande Morco Napoletano Che ti fa Juventus No ma com'è Che scusami Napoletano Ti fa Juventus Vedi che Il Juventino C'è come un torinese Che tu fa Napoli Dovete sapere Che poi La rivalità Cioè I Juventini Sono molto Molto Malvisti Malvisti A parte Ladri Sono molto Malvisti A Napoli Io conosco La zona Lo so Lo so La carta igienica È bianconera A Napoli Se me lo lasciate dire Dicono Dicono Sappiamo Chi Ruggero Magra Lo so Goal 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 Chi ha senso Mertens Mertens Ha segnato Ciro Sull'assist di Lukaku Sembrava che si fosse allungato il pallone Il Belgio Bravo Bravo Un treno Un treno che passa una volta sola Si può dire Il Belgio Che ha trovato il primo gol Dopo tante traverse Attenzione Berisha Costetta Gli straordinari Morco Scrive Driss Il mio pupillo Lo scugnizzo Ha segnato Lo scugnizzo Ragazzi Berisha Poco fa fatto l'assist Ora fa il gol Direttamente Il gol dell'ex Il gol dell'ex Berisha Autogol Ci dicevano Dalla chat Il gol di Courtois Invece ha segnato L'altro portiere Ha segnato Berisha Sempre gol Del portiere Noi palermita Nazi Poi c'è Spaccia per Juventino Poi c'è Qua c'è pure Qualche Juventino C'è Romanisti Ruggero dice Che fortuna Per il 2 a 0 Eh Un pochino Eh lo so Lo so Però la fortuna Aiuta gli audaci Attenzione Non si può Incredibile Questo rigore Morco dice Maria Quanto codo Per questa Atalanta Il 3 a Tutti Perché può Arrivare Il 2 a 1 Il Papu Gomez Sul dischetto Attenzione Perché si vede Dove lo tira Di entrare Incredibile Avevano lasciato Il cursore Messo No perché Non c'era il rigore Quindi Ah quindi L'ha voluto regalare Sì Presidente Nulla da dichiarare Si sta scaricando Si sta scaricando Ragazzi Un commento Su questo rigore Parato Hanno calciato E' stata tirata Una ciabattata Centrale Incredibile Verso Bellolampo Dicono Vabbè Perché poco fa Ho detto Potrebbe pareggiare Atalanta E invece E' arrivato Prontissima Prontissima La parata 2 a 0 E' assegnato Abberisce L'abbiamo detto Abbiamo commentato Live Dice Morco Che aveva Il papo al fan Ah Morco Il papo schierato Occhio a Petagna Che è solo Servito Spinazzola Spinazzola Leonardo Spinazzola Musk Spinazzola Musk Così Molto live Che ci dicono Dice Ruggero Mo' vengono i vicini I vicini E vi cazziano A 100 mesi E' giusto Sì sì Ma siamo qua In una villetta Un po' isolata Dai Fortuna Che vengono i vicini E' sicuro Secondo Allora Vicini 1,80 La quota Anche 1,30 Secondo 1,30 1,30 Allora Che ci ha detto Invece Simone Barone E' una caravella Attenzione Ancora Lo scugniz Ancora Lo scugniz Sull'assist Ah La parata Ah Berisce Stavolta Ha allungato Su Mertens E' tutto Butta là dentro Quindi Infatti Berisce Due assist E' un gol In questo torneo Lo mettiamo là Lo mettiamo là Nel frattempo Si è infortunato Ilicic Una caramella Ci suggerisce Simone Barone Dal dischetto Sì 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 Tiro inguardabile Più che altro Hanno lasciato Poi il corsore messo C'è da dire Il puntatore Non so come si chiama Papu Gomez E Froiler Due specialisti Anche tra me Perché Anche lui Può dire la sua Ma io ho fatto un gol Se non mi ricordo Per sbaglio Forse hanno tirato addosso Ancora fai tanto Attenzione perché c'è anche Il difenso Attenzione È una gran giocata Dramè È un'atalanta che fa giocate Veramente di alta scuola Froiler ha alzato il pallone Per Dramè Papu Gomez Dentro per Dramè Qui c'è stato Un grande schema Faccio apparere tu Il bergamasco Così lui pare Inserire C2 Grandissimo Marco Grandissimo Morco Grandissimo Morco Ma infatti Morco dicevamo Io e Enrici Abbiamo affinato La nostra intesa In panchina Abbiamo affinato La nostra intesa In panchina In C2 E infatti Panchina dopo panchina Ci stiamo trovando Benissimo a giocare Benissimo Bene ma non berissimo Bene ma non berisce Bene ma non berisce Poco fa abbiamo visto Froiler ha alzato Un pallone Per il destro volante Che non è arrivato Non è arrivato Non è arrivato Però Siamo lì Siamo lì E poi un bellissimo schema Gomez Che imbecca Dramè Dentro di rigore Che calcia addosso Al portiere Sì 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 Non l'ho visto Non so che ci dicono Spinazzola Autore del gol Cominzione cagata Chi l'ha detto? Ruggero Magaluso Ruggero Ruggero Commento perfetto Il suo Precisissimo Sintetizza tutto Molto bene Marco Dedo Ci leggiamo nel pensiero Perché siamo tutti lì Ah dice così Morco Perfetto Sì 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 Infatti Un'intesa Veramente Di quelle Importante Un'intesa Diciamo Ormai siamo Le icone Le icone Sì sì Luca Questo Luca Questo Belgio Magalus La sua Resultanza Romelu Lukaku Sì Questa la può giocare Un po' meno Diciamo Sul 4 a 1 4 a 1 Lukaku Ripetiamo Il marcatore Sì simone Scherzi Lo sappiamo Che scherzi Lutà Attenzione Ilicic Lukaku Che tra Belgio E Manchester United Sta segnando Valanghe di gol Suonate il clarinetto Suonate il clarinetto Di Alexandre La cacette Sì 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 Grandissimo giocatore La cacette Anche Pato Pato ormai A Brasile Pato esultava Dall'ambulanza Che faceva Mi pare che chiamava Il 118 Per quando esultava Attenzione Dai gol Apparecchio Per Munier Thomas Munier Credo sia stato lui Del balletto Del numero 15 È un'Atalanta Che era Partita discretamente Adesso È il Belgio Grandissimo Belgio Ragazzi 5 a 1 Marco dice Il clarinetto di Lukaku Attenzione Attenzione Parole fortissime Marco Dicono alla regia Che ti piacerebbe Marco Il clarinetto di Lukaku Ti piacerebbe Dopo l'infortunio al polso Dopo l'infortunio al polso Arriva il clarinetto di Lukaku Quindi uno più Dicono dalla regia Dicono dalla regia Attenzione Perché Hazard Punta Toloi Fermato da Berisha Ottima uscita Stavolta Dice Il cofano c'è La carrozzeria pure Mettiamo il cambio Dice Allora Che ci dicono Ruggero Simone Barone Simone Barone Partita sempre Attenzione perché Questa Tanta Sta prendendo un po' d'acqua Da tutti i lati Berisha Ormai Si marca tutti Berisha Non so se Berisha che ricorda Frank Barcellona Ma anche Allison Attenzione La porta è vuota Palolo Mamma mia che brivido È un'Atalanta ormai che Quasi quasi C'è rinunciato Ragazzi Kurti c'è al posto di Ilicic Marco Cosa da dietro Ah un incubo che arriva da dietro Ah fallo da dietro di Lukaku su Marco Z Mi dicono Non gli dispiace Non gli dispiace Granisce 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 Consiglio è l'Atalanta di giovere col portiere volante Gioca da Cico Gioca da Cico Suggeriscono si Il portiere volante come Ultima carta Come la C1 Il frattempo è The Run The Run Ok La fiducia di Simone Barone a questa Atalanta Che Che però non ci sta più con la testa Diciamo Questo belgio sta macinando ragazzi Metti Lukaku in porta Vediamo se continui a vincere Ah Lukaku in porta suggeriscono addirittura Hazard Numeri su numeri Stasera incontenibile Luca Attenzione al ninja Nainggolan che Forse è appena al limite Nainggolan si sciarria contro noi Attenzione Ilicoli a questa Atalanta Prende 87 gol a partita Oddio Che è qui Righi Righi ma la Ma chi non è la casa mia dopo Cosa fa Perché si fa starvi Ah vero Devi andare a scuola Me l'hai detto Sì Vabbè Zerda a sta scuola No vabbè ci devi andare Righi poi ci Allora rispondete Zerda a sta scuola Sì No Sì Sì Sondaggio Appena è uscito da qua Direttamente a scuola Sì Sarà una lunga notte In vostra compagnia Speriamo ragazzi Il bel gioco Trova i suoi primi tre punti La coppia Frank e Dario Trova i suoi primi Ora c'è il derby di Londra Non è proprio di Londra Il Manchester A fronte del Chelsea Qua Si parla anche di scuola Bocciatura Che ci fa Niente Ci può stare Un anno La bocciatura Tempra il carattere È un Frank Ispiratissimo Da quando è all'università Lo ribadiamo Analisi 1 Analisi 2 Fisica 2 Tutte le più difficili Ah l'Ul Direttamente al 2 Fisica 1 Era troppo facile Morco Z L'Atalanta Non è stata scelta All'unanimità O sì Non lo sappiamo Vabbè È una coppia scoppiata Che come dice il proverbio Quando sono tanti galli a cantare Non si fa mai orno Mi ricorda molto Luca Onestini E Soleil Sorge Luca Onestini E Soleil Sorge Hanno voluto testare La bravura degli avversari Al prossimo Saranno sicuramente più competitivi Sicuramente Sicuramente La squadra più forte è lo United La squadra più forte è lo United Chi lo dice? Chi lo dice? Lo dice Simone 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 ti ringraziamo sempre Verisce autogol Albergio ha cambiato maglia Ma che dici vero? Taglia figo Scherzi Ah non lo sapevo Grazie per questo consiglio Per la carriera allenatore Vogliamo dare un po' di nomi Al primo anno C'è Sanchez A parametro zero Chi? No no Alexis Sanchez Carlo Sanchez Neanche lo direi Anche Barberis Si svincola al primo anno Mi pare Pietro Iemmello C'è pure E poi insomma Questi siamo Che ci dicono Ricky Ha segnato De Bruyne Tiro fuori No Al 90simo tiro fuori Icon Prime Con quale peggio Icon Prime De Bruyne Ma non ha segnato Tirò fuori Ce l'ha scritto Zagarella dice La prossima si gioca Tut serio La prossima Allora ciao Manuel Ciao Manuel Ti salutiamo innanzitutto Ma lei dice che lo usa Sempre nella carriera Chi 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 Taglia figo In carriera Terzino sinistro Per chi ci segue Dragon Ball Ci propongono anche Dragon Ball Dragon Ball dice C'è chi dice Di darsi a Fortnite Tekken Ci sono tante opzioni Per adesso Ci spetta questo United e Chelsea Una sfida del campionato Ci spostiamo interamente Nella Premier League Just Dance Pure Però manca il Playstation Move Che cosa ne manca? No ci puoi essere il cellulare Ah il cellulare Però non ho capito C'è una Playstation Camera Boh Io non Non conosco Questo genere Di giochi Allora adesso Ci accomodiamo Ai joystick Javier Melozzo Contro Gabri Barsa E Zerdast Che guideranno Il proprietario Del canale Zerdast Seguitelo ragazzi Tante live Ricky che cosa proponi Pokemon Fortnite Che cosa proponi Ricky Ah Ricky Cosa proponi Fortnite No dico Cosa proponi A chi si iscrive Al tuo canale A chi si iscrive Al mio canale Propongo Fortnite È stato un caso Però magari Fortnite Qualche serie Su FIFA Ci sta promettendo In live Carriera Anche Fortnite Sicuramente Poi Pokemon pure Pokemon Cuphead Cuphead Grande gioco Che ha scalato Le classifiche Dei giochi gratis Non è gratis Non è gratis Mi dispiace Puntate su Tagliafico Ma non su Cuphead Anche Clash Sì Kingdom Mars Giocone Cos'è Remastered 2.8 Quindi abbastanza Alti Siamo Manca Gabri Barsa Gabri Barsa Manca Scusate Scusate Scusami Ricky Ma Gabri Barsa Manca Il fratello Cattivo Lo chiamo Il fratello Cattivo Ricky Tu fai la formazione Fate le formazioni E frattempo Io sono La voce di questo Torneo Mi faccio vedere Bella Sì sì Uguale Uguale Mi raccomando Questo modulo È perfetto Il 4-3-1-2 Lo United C'è Sì Praticamente C'è Mkhitaryan Mkhitaryan Dietro A Lukaku E Rashford Ma Martial Gioca Martial Però potremmo Metterlo C'è un posto Per Martial Lo troviamo Magari come Mezzala Potremmo inserire L'altro giorno Poco fa Herrera Ah Herrera è malandrino Herrera mi piace Sì 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 Assolutamente Perché c'è un centrompo Un po' più fisico Con Matic Dicono Non giocate a foot Ricky giocavate a foot Io non gioco a foot Possiamo giocarci Qualcuno ci gioca Qualcuno ci gioca Ci giocavo a foot Dice Cristiano Ronaldo Manuel Zagarella Dice Marco Zeta Se hai trovato la gente Per l'amichevole di domani Questo è il blu No il Questo è il rosso Io lo uso Lo uso sempre Nella carriera Abbiamo commentato No di domenica Non domani Domenica Marco Zeta Domenica l'amichevole E questo è il blu Dici Non giocata a foot Ruggero Ci giochiamo a foot Sì 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 Zerdast ci gioca Foot Ci giochi No Sì comunque Qualche episodio Magari sì Manuel Questa è la squadra di foot Foot di Manuel Zagarella La mostra La mostra Mio fratello ha trovato L'altro giorno Cristiano Ronaldo If Fratello di Melozzo Ha trovato Cristiano Ronaldo If Quanto aveva di overall 96 96 Un alieno ragazzi Un alieno è sceso in terra Come vi chiamate Sulla PS Scrive Ruggero Magaluso Come ti chiami? Io mi chiamo Rikid 97 Rikid 97 E tu come ti chiami Manu Sulla PS Piedestation Come ti chiami? Manu 4292 Melozzo Melozzo 96 Melozzo 96 Aggiuggeteci Mettetevi nella carriera Il difensore è Ta Quello del Bayer Leverkusen Fortissimo Jonathan Ta In coppia sempre con Bender Se non stai Ta Ta Allora Non l'abbiamo fatto Eh certo Si alterna qua Carriera e foot Dai si Difensore Ta Ha molto fisico Ok domenica Ok domenica Sei classico Ragazzi Un salutone Da Marco Z Buon divertimento Forza United Io sono già Simone Barone Manca Franci Barci Gabri Barca Scusate Chi è che ti fa per Zerdast Chelsea Cioè Zerdast Gabri Barca Io Ti fai io per Zerdast Io ti fai io Io ti fai io Io ti fai per lui Dice Marco Z Io vado Che domenica Che tardi Non sono per di giorno Come voi Sei un malandrino Sei un pacchiune Che appaiono Significa Una persona Un po' grassa Diciamo Poco poco A letter bet Le dicevano Simone Barone Ci scrive Io sono Gianni Io sono Gianni Si legge così Io sono Gianni Gianni quello di uomini e donne Non penso Non penso Un salutone Un salutone Simone Barone Dice Io ti fai United Ve lo ribadisce Riki Ci ha sostenuto Sin dall'inizio Sempre continuerà Simone sempre con noi Sempre con noi Grazie Simo Gentilissimo Si dice curvi Si dice curvi Marco Zambito Non si dice pacchione Si dice curvi Ragazzi Come la categoria Diciamo Curvi Quanta No Morco Non ci lasciare Dai Facci compagnia Resta ancora Un altro E vediti un po' Questa live E non fai Il mattacchione Che il sonno Si recupera Video per Cecilia Video per Cecilia Qui al microfono A parlare Con la Venite 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 A prendervi Sto microfono Allora Questo non è altro Che un Preludio Di quello Che accadrà Domenica Alle 15 Con Antonio Conte Che sfiderà Giuseppe Murillo I due Vanno molto D'accordo Sempre Strette di mani Sentite Proprio dal cuore Che escono queste Carichissimi Carichissimi Eccolo Davide Luiz Carico Una fotografia Che forse Ma ha cambiato squadra No no Non è così Era voci di mercato Voci di mercato Controlla chat E' saltato forse Lo scambio all'ultimo Con Alexis Sanchez Simone Barone Si vede tutto il torneo Ragazzi Quindi Fai bene Perché questo Belgio Ha cominciato a macinare Adesso Potrei vedere Solo bel calcio Attenzione Ruggero Ho mandato la richiesta Riccardo Zerdas Ora Appena finisce Di giocare Riccardo Forse Riccardo Per questo oggi Perché Così Noi raggiungiamo Questo Manchester E ti aggiunge Comincia il ritorno Comincia il ritorno Certo Ecc'è normale E allora Perché Perché allora Il Belgio ha regalato Questi punti importanti Ecc'è ritorno E scusate ragazzi Passo la La linea Beppe Bergamo Che io vado a rispondere Al cellulare Partita molto Intensa Ma confusa Fino ad adesso Nessuno ha avuto Occasioni grandi Riparte Mkhitaryan Lukaku Scambio Tra neri Ancora Lukaku Si fa vedere Palla per Pobba Mkhitaryan Qui ha peccato di egoismo Mkhitaryan E Fabio Ma io non so commentare Da solo Fabio Pobba Pobba Si è fatto pressare il piede Il piede E dabba poi Insistentemente Anche Alla faccia Ci chiedono Ci chiedono Lo sapete Quel bagno L'hanno risolto L'hanno risolto Non mandate Non mandate Strani Se non indiano Se l'avete aggiornato Comunque penso L'abbiano risolto Aggiornate Aggiornate queste con Tenzione Cross da calcio D'angolo l'obiettivo è non perdersi a zero correzione di amici ti meto è lentissimo attenzione Mkhitaryan si fa vedere Lukaku fuori gioco fuori gioco gol a nulla qua chiamano la VAR Rashford Mkhitaryan il gol era troppo bello il Chelsea che lo vedeva ridare allo United è tornato Fabio eccomi Beppe scusatevi sono passato anche in mente alla televisione hai fatto pure la VAR si si Valeri mi aveva contattato per il VAR che non è la VAR di Crotone ricordiamo cosa succede a Crotone ma non vi rompe nessuno per il casino no 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 tranquillo Ruggero non ci rompe nessuno le scatole qua siamo noi padroni qui ci dicono se Ruggero settimo ottavo forse è una poesia di offside il dio attenzione la doveva tirare Semi di Semi scusa Bobbà dove ne sbaglia una che bolide di Bobbà che ne ho tanti in Beppe che tiro deciso questo da parte di Bobbà che non nulla esatto forse una zolla ha avversato da qualche cosa le sue qualità balistiche di solito non lo fanno mai sbagliare Fabio quando era la Juve queste cose non le sbagliava contro il Napoli soprattutto quando era contro il Napoli lo può provare qui però senza palle Pedro mamma mia che mancino questo che bolide che bolide perde tempo De Gea tra i fischi dei tifosi avversari dell'Old Trafford della Saritano dell'Alex Ferguson del Bobbà Stadium attenzione Vincenzo Moses per Nicola data via tutto di prima si mola Fernando Alonso si mangia il Bobb adesso Bobbà di velocità Marco Orrace di naso attenzione Douglas Costa si gira Ruggero VII Ruggero VII ok grazie no no l'ottavo l'ottavo è settimo perché è ottavo eh certo è normale si è buona è buona tira che è uscita di T.T.R. Courtois di T.R. Courtois di T.R. Courtois è vero vero possibile è normale si sta seguendo no ma io non stai guardando questa live ma mamma mia che apertura che apertura per il tifoso la scarpata che è scarpata d'apertura per il tifoso più siri di noi reclamava palla va a volare si vuole si vuole Barone apprezza che cosa le nostre battute a buon gusto ma c'è qualcuno di quelli di live che è bravo a fortnite qualcuno bravo a fortnite che è parata di T.R. Courtois qualcuno che gioca a fortnite qui sono un po' antichi giocano ancora a fortnite Nicola Diego come si appoggia bene lui ex mageste ricordiamolo quindi forse ancora Tione Diego Marco Duva Duva è sostanza è sostanza la zapata comunque la con la zapata vabbè tranquillo Ruggero qua siamo tutti scarsi tanto Manuel che gioca tutto il tempo io per esempio non ci gioco mai preferisco platinare i giochi non so tu sei platini no uno è Simone Barone no sono quattro occhio uno è Simone che sta apprezzando il grande gioco ti ho detto che Manuel è molto sveglio ma forse Marco ha detto che se lo vedeva i bilinghi tu vuoi vedere i quelli con la serie no si ma compito si il piccino lo so c'è Manuel infame per te solo il salame scrivono attenzione qui mamma mia offese all'orgoglio esatto qui si sfiora la rissa dietro la tastiera siamo tutti bravi a scrivere perché diciamole in faccia certe cose come diceva Nilu farroggia uomini e donne ha detto grandi cittazioni ha detto che la tastiera più Claudio bravo comunque Nilu farra dati seguitela ragazza fantastica uomini tronista di uomini e donne ha detto dietro la tastiera i vigliacchi diventano coraggiosi quindi beh Nilu far si perché è stata criticata ingiustamente dal web dai gelosi qui siamo pro Nilu far contro Sara evviva siamo noi per Sara e per Nilu far e Lorenzo assolutamente giusto no stiamo parlando un po' di uomini e donne ragazzi che disassegono che disassegono penso di sì chi non lo segue chi non segue cioè uomini e donne ma dal prossimo anno comunque seguite tutti i uomini e donne perché ci sarà un tronista di quelli che sono qua e infatti simone hai detto bene è veramente bella e invece Ruggero va bene se torni ci trovi qua fino a domani mattina c'è solo ma le parole ha scritto quella ricciolina è una buona no è una buona non è quella ricciolina è una buona è una buona è una buona come caggia dice come caggia sì devo dire che Sara è una bella ragazza la ricciolina è Sara però non lo so non mi mamma mia Marco grande Marco questa esultanza merita questa tua citazione merita l'Oscar la nostra stima ma forse con un braccio forse con un braccio attenzione Marco Mario Rashford Kurtua non trattiene brivido strano che Kurtua non trattiene in genere non avevo capito un giocatore della sua classe tra magister e belgio voglio una shot impazzita per questo io l'ho segno solo vabbè ancora risultato bugiato è tra rocco è smalling qua dicono i tifosi del celti protestano è un po' di nervosismo attenzione bisogna calmarsi esatto ma che passaggi fa attenzione non è d'accordo è il joystick che fa i passaggi non è è il dito mannaggia che si joystick buggati oh Lukaku gioca sul velluto ormai questo manager il Chelsea vuole fare il 4-1 per ricordare Cardiff eh sì è vero Simone sta dimostrando grande forza questo United però secondo me secondo me questo belgio la prossima partita darà grandi emozioni e vedrai no qui vogliono cambiare ok ah non c'è l'Ital vogliono cambiare squadre non sono contenti non avevano prestazioni avevano prestazioni odierne oh oh tira tira no no ok non ti ne hai perso niente ora abbiamo appena detto non l'ho visto non l'ho visto abbiamo detto che tra poco inizierà un altro torneo perché questo a quanto pare finirà con la vittoria ormai quasi certa del Manchester United che ha fatto un palo di punizione di punizione di punizione boba ma che capo avevi fatto un passaggio belgio belgio United interessante diranno e si sarà una bella partita fra due squadre che segnalo molto ma allo stesso tempo subiscono veramente poco tra due Lukaku due Fellaini poi tanti ex di questa partita eh il primo tiro del Chelsea da parte di Courtois da parte di Courtois ma non mi fa cosa? eh sì sì Ruggero ora ti accettiamo la richiesta appena finisce di giocare Rezardas perché è lui che è in questo momento lui sta giocando con Chelsea e sta perdendo quindi aspettiamo Cesare ammazzione oh frecciatina di Marco Zambito che questo Manchester studia le strategie in panca durante le partite della nuova Sanchi ammazzione Riccardo Meli e Matteo Anolino non non rispondono a Marco Zambito no no è tutto studiato Meli fa la formazione ah Meli fa la formazione lui la mette dentro ok Matteo la mette dentro 4 3 1 2 di marca Sarriana ok com'è marca Sarriana questo 3 4 1 2 no 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 ricorda molto la formazione di Pepe Andolino di Lempoli di Sarri Nella nuova Sanchi di Andolino ricorda molto questo 4 3 2 1 e si lo so Ruggero si sta allenando si sta allenando per migliorare eh no questo Zerdast è contrario è contrario a questa sconfitta perché poi non ricordi davanti alle pizze eravamo arrivati solo con lui per esclusione io ho detto ribalteremo i pronosti infatti vedi perché dovete sapere che questa coppia un po' anonima un po' insolita non anonima eravate a Chelsea no a United a United si per sotto guarda non andate via salutiamo Ruggero Magaluso che è tornato si già lo salutiamo voi mi accettate le richieste Ruggero eh Zerdast per favore accetta la richiesta non ho capito adesso studio la strategia in panca non ho capito niente ma te andò lì anche lui perso no no è finito è finito Zerdast è scasso grazie eh certo certo vanno parlare il campo virtuale dice Marco Zammito ma perché scusa ma infatti Marco perché quando quando è entrato Matteo Lino nel campo reale il partitico ha fatto il 3 a 0 quindi il 2 a 0 e il 3 a 0 quindi per fortuna sei infortunato e quindi salutiamo Marco Zetta che se ne è buon divertimento ciao Marco buon divertimento Pogba Lukaku ha fatto il gol di rovesciata e poi quella tu per tu Lukaku Lukaku passata Lukaku forse 2 mi chiede anzi che non ha fatto uno l'ultimo si va bene vabbè si aria ho scritto poco Lukaku l'italiano Rashford uno ha fatto perché la porta vuota come paveri a se un mio zio forza United dice così con Charlie vuoi c'è qualcuno no c'è un ruggere ma lo so quindi vabbè il quinto chi cazzo ma vabbè chi c'ha ruggio ciao ruggi quindi stiamo facendo un altro torneo alla fine stiamo cambiando squadre stiamo ragazzi per chi ci segue stiamo cambiando squadre United che ha fatto 17 gol 17 gol fatti e 0 subiti incredibile tra l'altro l'ultima partita siamo stati pure molto fortunati seleziona automatica ha messo delle squadre no no e poi che ci dicono che ci dicono che ci dicono che è stato dove andare no due no Marco sarà no e ora come sono le squadre intendi un salutone anche per me un salutone a Simone Barone ciao Simo ciao un saluto grandissimo grandissimo ragazzi non ci abbandonate se no poi si perde anche lo spettacolo si perde anche la tina partì a mero United penso di noi United vuole cambiare dimmelo tu Ricky tu vuoi scelto United scopie vuoi fare United tu dove è squadra una squadra simile allora City mi piace allora poco fa noi che abbiamo scelto lo United lo United adesso siamo il Manchester City il Belgio è rimasto Belgio giustamente sono rimasti fedeli al Belgio poi siamo svegliati che il Belgio si è svegliato quindi ci promette grandi risultati e poi il PSG forse Bayern molto equilibrato penso anche qui Bayern Monschenklaabach si c'era un dubbio tra Bayern Monaco e Monschenklaabach alla fine Bayern Monschenklaabach Monschenklaabach fosse il Bayern percuse no ah non erano neanche le percuse era proprio il Bayern Monaco e poi quindi siamo andati siamo rimasti a Manchester però Sponda City una squadra pure ha grandissimo potenziale ci siamo ci siamo il mio torneo al via lo dice ancora non lo dice aspetta loro che cosa si sono presi si ah Madrid City una grande partita una squadra tostissima Real sicuramente squadra da batti le squadre ci suggerivano Benevento Crotone ragazzi purtroppo abbiamo scelto un livello leggermente più alto diciamo diciamo anziché Armenteros c'è Cristiano Ronaldo al posto di Budimir c'è Benzema vabbè comunque il sinistro diciamo che è più il sinistro di Bale diciamo è solo il piede sei classico sì io sono classico il piede è il numero di Mario va bene va bene ragazzi purtroppo alla forza sì ti dice Simone Barone grazie Simone ci sostieni anche con la nuova squadra ci abbiamo i nostri fans Ricky ti lascio di nuovo il comando a te fai tutto il modulo quello di prima mi sembra perfetto mi sembra mi sembra mi sembra mi sembra mi sembra mi sembra dispiace perché ce l'hanno chiesto quelle squadre sono troppo imbarazzanti ragazzi capiteci Ricky tieni la postazione touch tablet no fate benissimo a fare io che ho tutto la copertura io ho tutto perché mi ha potente protezione io quanto è di batteria 45 che le sono 42 per me le squadre le squadre la forza city forza city abbiamo i pinni sostenitori a manchester city siete voi è sempre loro ecco qui che vi parla zerda è tornato dopo tantissime disavventure prima partita tra l'ora la telecamera che hai oggi in questo torneo e forse partire a ciò vedere con youtube chi è ah vabbè perché già hai fatto troppa idea di cattolazione comunque ringrazio tutti quelli che sono iscritti siamo 571 siamo 575 quindi ma si no 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 ho detto che avevo un paio di discoteca la mob non è poteva dire si pronuncia una partita partita frizzantina signore e signore benvenuto al calciacinque girone unico campano si sfidano big match si sfidano al zandiero bernabeu real madrid contro manchester city via è partita attenzione guarda sto scemonito cosa ha fischieto attenzione sto vizio sto bambino mannaggia un bambino elettrico attenzione mendi fernandinho verticale per aghero il movimento a scavalcare il difensore marsello recupera palla marsello leggermente pressato in verticale per ramos cerca a trovarlo cerca a trovarlo davidselva isco si impossessa della sfera apre per bale tempo reggia bale si accentra converge verso centro in orizzontale per cross marsello finte con il nulla doppio passo sul nulla ancora continua col tacco serve cross cross in verticale ancora per marsello pallone di ritorno marsello comincia ad avvicinarsi ad avvicinarsi modric rimpallo favorisce modric zona tiro fintone modric se la porta sul destra giro cosa sta facendo un numero delizioso modric anzi ha fatto un numero delizioso poi sfortunato sulla conclusione che non ha trovato il pallo lontano che cazzo fa quello Gabriele e Gesù Gabriele e Cristo siamo il Bayern scelto ti piace? bianchi è il Bayern bella squadra Sanè Liroy è veloce ottimo scatto grande falcate avanza grandi falcate palla dentro cerca De Bruin anticipato riparte cross faccio faccio la 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 come si chiama questo qua faccio azionale Alla Sandor Vicinini Isco Fernandinho ma non è verticale terzo accettato da Silva riparse all'altro lato Mendy Mendy dentro numero modric scavetto per Bale aggancia meravigliosamente avanza il gallese le sue finte Otamendi su di lui lo contiene molto bene Otamendi fa partire il contropiede azzurro ma la riperde modric se la riprende modric è risultato per Bale Bale dentro per Benzeva company forse un blocco su di lui De Bruin chiaramente sulla palla sulla palla prima prima sulla palla e poi sul muo attenzione siamo qui Sane non è il suo piede Sane si accentra sparo una ciofeca deviata calcio d'angolo ha tirato così ha tirato un bel tiro proprio suo un bel tiro suo allora non sembra fisicamente possibile averse tirato lui così invece si Benzeva Modric Isco è perché c'è già la telecronica ma ovviamente non è bella quanto la nostra in quanto è bella scuola ah lì allora ho scritto qualche cosa qua non si va da spese non si va da spese non si va da niente che c'è i soldi hai fatto a me devo mandare ciao a riguardo di accettare la richiesta ciao Ruggero grazie per essere stato in live per essere stato per essere stato e per esserci stato basta facciamo la richiesta tranquillo c'è c'è la c'è la Marino è verso guarda 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 ma che è che aggancio ma che aggancio capire il gesus dentro per la gherò vince il duello con Marcello dentro Lirou Sanè guarda guarda lui non ha manco tirato con lo stop che signore Lirou Sanè la sblocca lui Lirou 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 1 a 0 city 1 a 0 city vorrei vorrei ma non è possibile la grande c'è c'è un po' il peggio iniziale la polinismo attraverso fisso dai 25 metri iniziali capo un pochettino mai la polio ma non quando mandorale di no per me ci facciamo a terra perché si va vorrei se arriva la legge c'è 4 scala ma solo a stare ma si voglio portare una partita ma stanno brozo vince detto anche piccolo 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 per Zagarello buona per il nigno il figlio di quello di giocare alla santa per il nigno il nigno di Bernardo ma vogliamo andare fuori che dobbiamo passare parole forti intanto questo torneo lo vinciamo noi io ho detto attenzione chi ha detto ci proviamo un protagonista del bari Angerlotti un piccolo si c'è 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 per il capodanno abbiamo capodanno abbiamo capodanno abbiamo capodanno per problemi comportamentali comportamentali tre falli scusate la mia assenza ragazzi era andato un attimo di lì di lì chi c'è 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 c ma è vero 33 con Bruno Perez mi hanno prestato al city sotto un gatto impazzisce no 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 solo la tv no la tv ha c'è ha staccato il cavolo ha staccato il cavolo ha staccato il cavolo ha c'è attenzione attenzione no no va va attimi di panico perché il mio gatto si è penetrato tra i bui esatto nella difesa del Manchester City c'è il re 7 ci pensa lui rigore? no un commento un commento molto tecnico è l'intervista da parte dell'allenatore del Real Madrid è il migliore in campo che parola di italiano qualcuno la ricorda c'è concentrazione infatti però c'è molto silenzio perché c'è tensione abbiamo sentito tanto il culo il culo Rufi Kun Aguero Sania no no Otamendi Otamendi Gareth forse un intervento un po' shari tu che ne pensi di questo intervento un po' ecco ecco un altro commento commenti puramente tecnico e qua CR7 la posizione del pistolero aveva molto difensivo questa cosa di aprire a Gesù la passa a Pernandini vai mezzo 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 sì che ci va? mezzo 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 Keylor Gesù Navas molti Gesù ci sono in questa molti molti credenti al contrario di quelli al di fuori tra le all'attori del Real poco credenti ecco eccolo eccolo quello che diceva poc' anzi un credit Gesù Navas la prende invece di moltiplicare il pane si è moltiplicato lui per giocare in due squadre diverse giocare alla Lazio nella Lazio e nella Fiorentina esatto Milenko però ecco ecco offendiamo il diavolo stavolta un po' l'uno un po' partiscono le offese esatto esatto è giusto per par condizio ricordiamo che il live è ignorante ricordiamo le persone vengono preparate non posso solo dire che non le abbiamo visto ma che dico per quanto riguarda le perle di saggezza di Budwell raga io devo andare a poi cercare quello di nuovo ok eh si lo fare ma appena i miei genitori partono partono si esatto è passata lo vorrei fare anche domani e dopodomani però purtroppo sono impegnato quindi non posso ah perché rimane pure per dopo che definito ah passiamo il microfono un definito definito male basta io mi potrei prendere il giusto che ho paura con le sue braccia possenti gabriele e gesù a liroi liroi solo uno contro due ora è la piazza è la piazza sulla piazza sulla piazza di navas gabriele e gesù staccare di testa carrao cristiano cataldo buona così cristiano rolando bianco rolando cataldo cataldo baglio luciano l'uomo mago guarda guarda chi è l'esperienza di portiere ederson palmieri mariano isco mariano di uomini e donne di prima giù di prima di prima di prima la disperazione negli occhi di zizu zitan ha perso i capelli per la rabbia ti riballi se li hai strappati tutti ma anche il destro non è male è malissimo terribile è peggio il destro non c'è nessuno toni gillo che voleva l'asolo del crew è fatto perché secondo noi sappiamo già chi lo dominerà però non facciamo lo scoprirete solamente stando con noi non leggete il manga rimanete in diretta c'è x c'è x ma che cazzo porco giuda finisco io sicuramente un bravo ragazzo come lui non avrebbe mai dedicato la sua è soltanto il tronista ma finisce qui ora tocca ora tocca il magico belgio contro il contro il bayern monaco il bayern monaco c'è blablabla aspetta 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 no 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 non ci siamo uno o due si aspetta aspetta non ho cambiato un libro secondo è minuto pure ricordate il numero di mani no 24 no ma chi è il cattolo Gesù 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 cross mi ricordo però non mi ricordo i minuti un attimo i minuti e basta no 24, 45, 84 24, 45, 84 45 45 45 si io devo ricaricare questo no che sta la ganga ci siamo ci siamo siamo pronti si siamo pronti poi toglie ma chi siamo come si conoscevamo? no no aspettavo la cavalcata no buona giornata come siamo lato che ha scritto? la cavalcata chi? odo che posizioni sei? odo che posizioni sei? odo c'è il microfono non siete timidi non siete timidi l'appoggino c'era l'appoggino c'era l'appoggino prova ci siamo ci siamo allora vediamo un bagger monaco che affronterà il solito belgio della coppia ma solo a barsellona visto visto rivisto visto miglioramenti nell'ultima partita secondo me potrà strappare qualche punticino qualche punticino anche i 9 punti potranno strappare secondo me vediamo lui a raggia non si fa male ciao cane ah vale a stegno che meraviglia c'è un po' ma chiamino vai a brighi quante pop attenzione attenzione incredibile dobbiamo stare vicino no tu no 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 cioè scrive non dirlo chi è che ha scritto chi è che ha scritto non lo so ora lo facciamo da là si tira quello qua va bene tiriamo d'acqua vabbè vieni è bruno 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 ma che cazzo ehi attenzione rigore 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 per il belgio e cartellino rosso per Jerome Boateng no no lo stavo guardando ah giù eh purtroppo a destra tira a destra per me li tira a destra Hazard a destra a destra tira 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 a destra ASALTO che colpo da biliardo a parte avvantaggio il belgio con un uomo in più col gol sul rigore di Eden Hazard Eder Hazard Eder Hazard il nuovo giocatore dell'Inter vediamo un Zaga abbastanza sconsolato che parata di Emanuele Neuer infortunato dal 37 90 come è stato l'intervento D'altitore ci sono complotti tra lo Zaga a mezzanotte a mezzanotte me l'ho scritto che cavalcata la cavalcata la cavalcata del capitano quanto è infamata che facciamo quanto è infamata e ci sta ci sta il pallone è rotondo e non è illegale fare ste cose quindi l'ho provato l'ho un tocco di cassa ma scusate ma ciao Giorgio è buona è buona c'è anche compati chat super chat e ci sono pure le donazioni se volete donate sganciate i banconotoni le banconote da 500 sono ben accette parla parla no non parla vincenzo compagno ma non mettete nessuno mettete una in difesa chi c'è chi c'è chi c'è chi c'è guarda dov'è il bagno dai 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 è fatto la roba posso la roba lewandowski uno pari col Bayern il svantaggio di di uomini riesce a portarsi sull'1-1 grazie al gol del polacco forse il migliore di tutti Robert Lewandowski incredibile Romelu partita abbastanza piatta oltre ai gol e l'espulsione di Boateng roba attenzione giocata incredibile perde palla però sta dormendo sto cano attenzione morte in diretta live mi ha saltato in tutti i sensi di sopra infortunato non capirà tutti i giorni ce li ha Munier il terzino destro del Basen Germain attenzione scivola Ames è giocata incredibile aria ruben il bacio di Gabriele all'amorosa incredibile salutiamo Marta Orlando salutiamola stavolta stavolta salta su Giorgio stavolta ho visto tutta la scena la festa l'ho staccata mi sentite ragazzi mi sento questa partita guarda che strozzo romerù lucacu lufa 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 no che è grande ma voglio leggere non ho capito stavolta cambiatelo mettete un centrale mettete un centrale avete un buco si ma avete un buco allo stesso modo attenzione spider-man sta puntando all'automobile secondo me salta su Giorgio guarda fiero va fiero quel gatto ragazzi guarda guarda sta guardandoci ciao attenzione rosso no 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 attirare da tutti i tuoi no 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 curto a riuscire in campo compagni e cancato e non è giocato non è ancora il ricordo indicatore com'è basta la toglia gioca e 9 dal primo minuto del primo tempo in 10 scusate in questo momento sembra che giochino anche in otto in questo momento attenzione c'è una dedica importante a parte di matteo vorrei dichiarare al mio amico adessi marino era zagarella io vorrei dire stato zagarella squadra inesistente in questo momento saluta antonio squadra ignorante per ora ragazzi chi è lo spettatore non credo c'è qualcuno mamma mia c'è la pianta ecco 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 la striscia la striscia ma chi ne ha fatti tutti sti gol ma giovano senza un centrale giovano senza un centrale e mi sono innamorato del tuo 18 ci sta attenzione proprio loro credo con un gran parziale grande bucciarelli bucciarelli mani attenzione giorgio mangiere 5 a 0 del bayern monaco 5 a 0 e le mani attenzione giorgio mani attenzione giorgio mani attenzione giorgio mani attenzione giorgio ma poi coman e due a mio là e il cesso e invece il cesso il cesso il solito messi e william una festa the доп... ma poi potresti mettere anche un difensore perci OW infatti non lo facciamo nel cuore scuola vabbè ho fatto tipo 4 gol d'azard aspetta facciamo un bacio a I facciamo un bacio a I che lui ci ha in queste partite con destra con Neuer no dai ha preso la tangenziale che giro la prima volta che si muzzi ho ucciso di giù ha promesso non abbiamo questa partita Joshua Joshua Kimmich secondo giallo è del rosso è uno spettatore fatti avanti spettatore non essere timido o spettatrice non sappiamo chi è sapermi come ha detto guarda ancora Mattia no ma il futuro tu risultati spettatori non fa con l'acqua di caldo ora la bandiera dobbiamo farlo non chiede a te a tre per l'aspettatore e per l'aspettatroci per l'aspettatroci per l'aspettatroci ma per chi? ma io Lukaku si muore in velocità io il portiere del mondo dicevano chi ha due le chilometri all'aria andava avrei visto che è sportita avrei visto che è sportita Atalanta Manchester United la spunta là sotto e c'è scritto un 0-6 rimembrando Lukaku al sesto minuto un Herrera al 23 non ha fatto con il Cessi 1-1 1-1 gol di Messi è di William ma finisce malissimo il ritorno è scandalo è scandalo è scandalo è scandalo è scandalo era il sinistro di Franci Barci tu lo già eri rimasto a sempre un po' che hai visto vero? dalla porta marca sede da parte al solito ormai ogni lunedì si prende un gol è una sicurezza era una sicurezza la gente è una sicurezza c'è un 1-10 con la giornalità la porta è black and trouble it's the last of all la scappella bella bella attenzione gol di alaba alaba 3-8 5-8 passi you don't pass rimonta pazza rimonta pazza c'è c'è ora come partinico nuova come nuova sancis partinico iatina emozioni uniche io ho fatto l'importunio decisivo invece di passare me l'ha tirata l'eroa Marlène ah tu la sai mi chiamavo io vabbè in tempi giorni alterni comunque Luca ma cosa tira tira lo fermo tira lo fermo è spavissimo ma io ho già esattato prima la sostanza di Blaise Matuidi riproposta da Romelu Lukaku comandato dalla squadra di Ciccio Barcellona e Dario Mazzola batte 9-3 per ora il Chelsea anzi il Bayern di Monaco partita abbastanza indegna da parte dei giocatori del Bayern che prendono tutti i tiri tutti tutti in rete raccolgono la palla sempre dalla rete finora che è successo a Neuer ha parato la sua prima palla dopo 90 minuti quasi attenzione è fuori fuori incredibile Lewandowski la piazza ma la butta fuori Lukaku non riesce a prenderla parla per Rodriguez per Robben intervento di Vertonghen attenzione Mertens non riesce a prenderla c'è Rodriguez 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 passaggio in mezzo per Robert Cortuala mette fuori prova rovesciata non fa ormai mancano pochissimi minuti alla fine della partita ed è gol il gol del Belgio è finita schifio purtroppo partita segnata dall'espulsione di Jerome Boateng Kimmich Joshua attenzione vita all'Arturo credo comunque che l'abbia parata il portiere fuori aria se non mi facciano fare non mi esiste Luca non importa cosa fai dipende sempre Luca per lei 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 per tu faccio a io ma che è che giocare azzardo ce lo voglio fuori attenzione cercavo di riproporre il gol di Menezze contro il Parma ma non ci sono riusciti lancio lungo di Vidal per Soret finita la partita col parziale di 10 a 3 per il Belgio soprattutto il Belgio ma vince anche lo si visce 3 a 10 massacra il Bayern in una partita è questa rita ti metti in via tranquilla che se non la zappa è contro pressione 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 ma prurio vai 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 però forse non gioco la prossima è il sito di Belgio è la tua sito Gabriele messi onora questa è il giorno il portale lo dico ricordo sai come me lo dicevaste il regio è buono maia manca uno miglior difesa del torneo il Bayern 3 a 10 no comunque abbia giocato abbia giocato troppo secondo me burrissima tasti tasti tu sei madi tu sei madi 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 come? il mango è sempre a 3 è sempre a 3 è una sua partita ok ok ti devi cambiare solo a 3 certo ma ti vuoi la nera premis 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 ma il muso ma ti vuoi la cava con la nera vabbè ci bisogna li metto in ordine lascia così non c'è di bisogno si capisce 3 punti si capisce si capisce ma lo metto in ordine è un po' ma lo metto in ordine 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 direi che finiamo ultime con questi con subiti penso quanto è finita? 10 a 3 è il portiere che usciva già nel primo tempo con 8 gold di merthens io espoluzione al quarto di merthens 5 azzardo poi aggiorno noi diciamo che vabbè in Germania lato ragazzi ragazzi benvenuti a questa nuova partita Bayern Monaco Real Madrid da una parte grandissima Antonio Maurizio Campagnone è un tiro rotto è un tiro rotto è un tiro incredibile Robert parte fatta a giallare alla Madrid alla Madrid alla Madrid attenzione Bruno Longhi Bruno Longhi attenzione golle golle gol del Milan attenzione incredibile Bale Bale si destreggia prova il tiro non va il nostro speciale ai contati ospiti Giovanni Galli Giorgio Rossi Giorgio Rossi e soprattutto le bombe di Michele Calcagno credito proprio lei i gemelli eccezionale 96 96 con te ci c'è qualcuno Gaetano Greco ignoranza pura si Gaetano si così ciao Gaetano sempre nel nostro cuore ciao Gaetano ciao Gaetano 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 che squadratifi Gaetano quando la regia vogliamo sapere queste informazioni abbastanza private soprattutto importanti io sono Francesco Totti io sono Francesco Totti e faccio i selfie io sembro Francesco Totti io sembro Francesco Totti Francesco Totti Francesco Totti Francesco Totti passaggino non paga finito è Francesco mi raccomando non parliamo in modo scurrile ignoranza troppa ignoranza qui è tanta qualità tanta qualità e soprattutto tanta quantità due spettatori due spettatori si toccano picchi altissimi dai quattro di poco fa conto la qualità ricordatevi pochi ma buoni ricordatevi anche dieci 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 ormai tutti i ragazzi sono a letto mamma mia che riflessi dove ha arrivato cosa ha sbagliato Fabio Gaetano secondo te sono scarsi questi giocatori a Real Madrid o sono scarsissimi si lamentano cose abbastanza non vere le scuse quelle belle c'è un mezzo in attacco non c'è il motivo malandrino malandrino Gartano Greco incontelibile incontelibile eccezionale proprio lui con le bombe di Micaela eccezionale mi giuro non l'hai fatto dire molte allora ha fatto Sergio Ramos Sergio Ramos lui si sente in mio torneo picchi altissimi ci sarà Bernardo Corradi Giovanni Galli Alessio Tachinati Alessio Tachinati per commentare le bombe il Micaela Calcagno credibile Graziano Cesari con il VAR regolare onchi a Bordocampo gole ha segnato il Milan gol del Milan calcio di rigore c'è pure Aldo Serena il tiro di Palasio che si vila sotto l'incrocio davvero un gran gol che giocatore che giocatore a Tiki Taka Tiki Taka Tiki Taka Tiki Taka Tiki Taka Tiki Taka partita ferma sullo 0-0 partita piatta molto brutta se posso permettermi mi sembra una delle partite del mio Genoa contro il Torino tutto è 0-0 tutto è 0-0 un gol Goran Pandev Goran che va sempre a caccia di gnocche con la sua capigliatura che ha segnato il General Tomas Rincon General sempre titolare il mio pantacalcio di quelli ragnosi ragnosi il General sei più ammunizione il mio torneo il mio torneo attenzione che scuccaiata ragazzi alta altissima classe dice qualcosa Gaetano non dice niente Gaetano non ti addormentare per favore perché siamo già in pochi già che siamo in pochi anche ridiamo i lavoni però Gaetano condividi su Facebook se vuoi così più gente viene meglio assai guarda 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 che peccato qui vi spoilerò comunque il gol del Bayern Monaco dopo questa grandissima giocata ci sarebbe stato il picco di 3.000 4.000 spettatori altro che ciccio gamer con questa crew piace piace io ho due scritti mia madre c'è un video di Enzo parodi Enzo io ho qualche video di Clash Royale ai tempi Airsoni quando ho trovato la prima leggendaria c'è spacchettamenti spacchettamenti aspetta forse c'è guarda guarda si bauli gratis il bauli è abbastanza gratis io su youtube vediamo che c'è intanto il sonno si fa sentire raccolta i miei video si 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 attenzione 4 video addirittura 38 339 visualizzazioni incredibile 339 visualizzazioni ha preso la leggenda nel baule quando un anno fa un anno fa 339 visualizzazioni leggendaria nel baule del clan è incredibile Clash Royale per fare visual già un anno fa che ignoranza ho trovato il minatore finalmente si si cazzate varie attenzione sempre in diretta vediamo che c'è uno spettatore attuale gheta la modrici ha segnato il gol il gol del vantaggio per il real real de madrid alla madrid alla zinedine attenzione non va è una partita combattissima primo tempo piatto solo due tiri forse importa l'uno l'amato arturo arturo vidal c'è sonno c'è sonno in questa live ragazzi in questa live c'è abbastanza sonno ancora c'è gente quello spettatore persiste sempre con noi sempre nel nostro cuore questi qua dentro e non lo dice esatto secondo me è ciccio ciccio barca ciccio barca si sta seregendo non siate razzisti contro gli arbitri stai facendo cose importanti ragazzi attenzione lombardi lombardi alessio vittorio parigini ci vuole un cabba se ci va femminuccia quando la passe alaba david si che sei bello ti prego fallo fare gioco ragazzi è un mezzo è sempre punta di ciò ma è stato tutto quale ha messo titolare punta cambiamo cambiamo prospettiva più visitato più visitato e più brutti di questa live attenzione è stato bravo chi sweet chi ha detto dopo no sweet non so io non so più è andata la è andata di oltre tre ore ma forse è meglio ci segue ancora non lo dice wey ma qual è dei due fratelli mike social dicono sempre dritto ma di che fratello chiedeva diciamo è importante dicono che aveva gli occhi azzurri sto fratello bomber per caso mazio da punta centrale sembra è qui è qui c'è il gol percadio ma c'era dentro ma dovete tirare in porta che passare a parte la vuota golla che vorrebbe costare abbastanza caro oh cazzo una coppia di palazzo è uscito il boccuccio la bicicletta noi che la parla col piede la passa più che noi sembra la zappino montipò 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 fagliatella come si ha tagliati tagliate o olandese tagliati argentini giocava nel bocca junius ora arriva al plate una squadra del gioco preso l'ajax è uscito one to watch one to watch one to watch giocatore straordinario tagliapico incontenibile marcello salagetta il panteron la melina dei giocatori del madrid che non sanno cosa fare che schifo che schifo di giocatori che schifo sull'1 a 0 con un uomo in meno che ha sull'1 a 0 fanno questo infamato questi giocatori andrebbero bannati da tutte le scuole calcio è finito il calcio gioca 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 tira gol il gol è proprio lui di robert lewandowski è gol del baiere do lewandowski che magia calcio calcio brasila crash portugais calcio corioca carioca paulista attenzione colpaccio forse colpaccio passare la devi passare vai dritto vai dritto per diritto vitalo fa andare a sinistra e la passa purtroppo intesa citizens vedi che c'è due incutini robin se ne va robin solo incredibile colpaccio bayern secondo me si può fare dovete pareggiare va a vincere la questione 2 jordan attenzione robert 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 vai in mezzo robert robert serpentina si è emozionato no co2 oh cazzo oh cazzo bella raga sto tornando sto tornando incredibile e qui c'è il 2 a 1 pareggio che sta bene a tutti serie b norvegese incredibile attenzione rosso per luca modric sotto la doccia no no niente veloce zappato costo zappato costo è felice così un punto che va bene a noi a nessuno ma siccome sono sboroni e scassi è fina malissima è fina malissima che segnalo ricordate che cazzo chi siamo noi chi siamo chi siamo bayern monaco bayern è finita bayern reale è fina 1 1 1 è segnalo ricordate ricordate che ha segnalo lui paletto c'è un altro un po' ma robin no robin non puoi andare là sotto no non l'ha sposto mi sposto io gli alberi ricordati che ha segnalo c'è stata una palla dentro nel taglio che ha segnalo ragazzi le mandosche è per loro faccio le mandosche l'altro non mi ricordo due tasche è arrivato addirittura due tasche ronaldo no non sento la ronca modi 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 ci ha segnalo non mi ricordo più un cazzo non mi ricordo più esatto tra le due squadre che hanno dominato c'è uno po' di tornei main galant mi dico una cosa main galant il benzo viene dai dieci gol e ritieni al bayern e altrettanti ne farà adesso non si in gioco non mi ricordo più non si mi ricordo più e il nei nostri tempi lo facciamo a sperare ora vediamo di quelle circostanze lo fate sperare pure voi come la piazza perché non ci sono più attenzione io non so io sono spesso vediamo io giallo e tu verde ok io giallo e tu verde quella è spenta non l'abbiamo capito perché la sardo ok ah sono solo ok però si è staccato non ha più stabile guarda quanto va giovancello si che c'è ci sei Gesù oh oh è è adesso vince il company il sono adesso c'è altro non puoi sai che è quello che non mi nasconde c'è 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 e dai fallo c'è c'è di nuovo buona aspetta aspetta ora ora grande oh che giocata che farlo si ora la facciamo beh ah che cosa la toccata bravo la toccata la toccata la toccata una schizza la toccata anche vorrei che dov'è essere ammonito buzo ci ho provato c'è anche anche che basta io l'apertura sei ancora tu amore mio anche è luca cuo ha capito non ci credo perché io ho chiesto delle pietre c'è un buco che stavo dove il caffè stavo giocando la pizza non ho toccato io per favore c'è qua dove sei? dove sei? c'è qua dove sei? bravissimo ok c'è? ok 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 ora ho la canzone c'è sempre certo c'è sembra palace a mangiare la pizza il bandiglio ragia cattivissimo c'è un luca qui in the box l'ho servito è il culo con la guerra di strafuglia non ci risulta dai deve far così chiama il pizzaiot c'è un luogo c'è un bai un bai il giovane che ha fatto il croc vabbè questo schema guarda quale c'è sto con i grenzi c'è un bai c'è un bai c'è un bai c'è un bai l'avrebbe schiacciato l'avrebbe schiacciato l'avrebbe schiacciato lui non sbaglia mai c'è c'è un bai c'è il bai c'è un bai c'è un bai ma è l'ho c'è un bai Passaggia, passaggia! Io sono in famolata pronta, invece no! Siiii! Le passate le buoni giovani! Se è ecolista sei! Io non sono stato! La passata la so! Vuoi passare là? La passata la so io! 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 Eh c'era la so io! Eh c'era la so io! Ehm... C'era la so io! C'era la so io! C'è scoprienza! C'è scoprienza! C'è scoprienza! C'è scoprienza! Nooo! E' quel più bello che l'hai su un capo? Un capo? Sì! E' un vincitore! E' già avessato! E' già avessato! C'è 2 a 0! E' un vincitore! No tu devi giro in poste! Non tu delle scopri? Nell'ottobus! C'è un vincitore! Non tu delle scopri? Ah, vai! No... C'è un vincitore orange! Massimo Ghiagliatura Cosa stava? Luca! Gu! Tira, tira, tira! Che esperienza di Ghiagliatura? Di giovinezza De Bru? Ti ha chiuso che sto corre, no? Eh grazie Te la passo Te la passo Stava attaccato Ghiagliatura Ghiagliatura E' bello Lukaku Eeeeeee Luca! 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 Stai con l'esterno a portare il supporto della posta. C'è una portata in rotella. Hey! La posta è lenta. È proprio con la plastica. Questo pianto è tropevole. Non lo manchiamo? Potremmo essere petrante, se non ti trovi in personale dai amici. No. Tre 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 non suonare gli amici. C'è una fascia già pioggia. Che te davvero aveva una materia di gioco. Mi senti una mente. Quello è bellissimo che ero. Fintona. E' importante. Perlasco. Perlasco il veloce. Oh! Cristo Gesù. Regalino. Siamo aperto i sedi regali. Ma è il vento. Perlasco. Pasā! Pasā! A go! Vediamo! E' un bravo. E' un bravo. Ale! E' un santo vera. Eh. E' un bravo. E' un bravo. Rivediamo. Chi ha messo Stard? Non ha visto nessuno. La mossa. Io mi sto parlo fuori. Ma si è porto fuori. Di nuovo. che è fortissimo è la seconda a due maglie il testito del piede che si vuole ok, il peggio la riapre il sito è costretto da ammazzare la partita nuovamente e gli spoiler no, ma non la faccio non c'è niente vabbè, dai che hanno fatto spoiler vabbè, non me li guardo non ce ne abbia risposto immagine vabbè, no della 127 è fuori la fattoria la facciamo sì, go domani a mezzanotte iniziamo la stagione di cosa? non arriverà mi sentivo importante no, no, sempre qua siamo non mi parla si rende isativo anche se ora siamo più calmi non abbiamo i 90 minuti e le gambe guarda, guarda rallenta per farlo no, io non ci posso rallenta per farlo non ho visto il somatico lo tolteneco che mi chiamava da dietro non lo so guarda, è pronta guarda, guarda lo sapeva lo sapeva e aspetta è lui che si può mettere dentro ecco mezzini che la data di prima è Cagliolo e il secondo palo ormai è mamma mia mamma mia mi stai tornando che fa quello? vada dentro lukaku 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 un giallo una assolta signore un po mario non mai ha capito a ma dai mamma mia ma c'erano finito così in colonia caro ce la abartezzi un po' io, io grazie a casa per fare 35 frati va suai ricordo ricordo per questo non li contano non li contano come qui per questo perché non arriva a votare non so andiamo a solo ma non so dole andiamo a solo non so non so non so sono l'uomo forza no montani io la spazio io foro per 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 l'app ora ancora non non Sì, è un po' di salva. Non prenderle di canzone. Quanto fa? Dovete Isaias, dovete Gesù? C'era giù? Nooo! Ma no! Ma no! No, non puoi giocare! Non puoi giocare! Quanto di ripletta Gesù? No, non puoi giocare! No, non puoi giocare! O loro o noi? Quattro e due volte? Ecco pure Noi avrei giocato a te Noi ci siamo No 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 Vai guarda Bella stanzione Mi gioca? Ma la live c'è ancora? Sono giovane? Si c'è ancora Ma che cazzo? Una volta con questa maglia non c'è ancora un gioco La formazione è bella Ma se hai detto mai Quattro e due finiti Quattro e due finiti Quattro e due finiti Guarda io non ho parole Ma stanno anzi che faccia la formazione E niente frate No Non sappiamo chi ha priorità Io non lo so Che segno dove ha dato? Eeeh Sfrutta la velocità Hazarda Hazarda Bravo bravo Passagginola Oh 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 guarda qua guarda che ripeto di Inverta che fa, che bravo ma dalla di prima, guarda qua, guarda invece i miei ripeto, ma con le mani che cazzo si vuole guarda i passaggi che fa, hai visto? il fachiro hai visto? di prima, guardi di prima ma perchè fai fuori gioco? è veroce, è veroce è veroce, è veroce è veroce, è veroce porta a Barcellona forza Lazio Suso ti dai, fighi una dentro ma basta! si è un po' prima che la puoi dare va bene, si è capito il sforbitro di fa a Madrid ci ha annullato un gol incredibile ha morito vinto la partita sarebbe già archiviata eh ma veramente Marcello rotta no vede 37 minuti ma dove c'è sempre qualcuno morto con la trovata in gioco? eh perchè noi abbiamo un gioco è veroce ah poi all'inizio della partita ogni volta ed è una sola guarda che falla aspetta Mertens dentro per il Menier ma che cazzo faccio il portiere? ma che cazzo faccio il portiere? ma sei coglione sono un belgio ritrovato sono un belgio ritrovato sono un belgio ritrovato è un belgio che non sta per la vittoria finale che cazzo faccio il portiere? chi è? questo è il belgio che conosciamo e questo è il belgio che conosciamo ehm Menier Hazard ai maschets perchè maschets? grazie ma che... ma mi spiegate che sono infamata time ma che c'era? ma che c'era? ma come è? 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 guarda qua guarda che ferocio guarda che ferocio infamata time dai lukaku boom lukaku tempo ho bene le mie risultate la nostra coppia ma è stato testo è stato strano uh non ci è sempre baghe sucking silenzato e si guarda il corpo k uuuu cmd ehm Бобще sotto l'infroschio Sotto l'infrosh Ti credo io, c'è Nava tipo doppio Inchia confusione Certo, certo Perché non l'ho tolti Così tu ti posso andare da tutte quelle notte di precedente Allora Ma si può fare un male con questa gente Con questa gente Mi dai il pazzesco su quello che è in poligioco Coglione E' perchè non l'ho tolata in corso di me Ma la porco Ma scusami ma Se non l'ho tolata Ho fatto Luca con l'ultima Vabbè, non l'ho tolata in poligioco Allora Eh Con la mano Luca Prima si tira Ho parato, miracolo Ma in mezzo con? Prima, i pallonetti Quando si ricorda i comportamenti Guarda qui Eter Luca Luca Tu Forse l'hai coperto Ha bisogno di un altro È un altro Di costo Un laterale Un laterale Un laterale Comunque è Beggio incontenibile Cioè Le più erano palloni Come Beggio Un inserimento L'inserimento L'input Un italiano Un'altra 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 non sono spesa avrà avuto un po' di orgoglio ma come cazzo ha che c'è il bambino? io vorrei andare a parlo vorrei andare a parlo senza io non la mettivano no perché mi hanno fatto la massima forse io mentiro non vuole la senza non ti vuole la mettivano non ti vuole la mettivano non ti vuole la mettivano Lukaku può scattare 5-0 mamma mia che retro passaggio incredibile di azzaro vix è proprio la gloria personale si invola cercate di perdere dobbiamo fare il più gol possibile contro me e Gabriele oh già in certo regalacci questa cosa ma si ma si ma che si può fare? quanto cosa inseris ma anche se fate 300 volte perchè? che cosa avessero a trenare? ah beh che c'è? ecco da più di voi ma arriva vai vabbè parteci vabbè parteci vabbè parteci vabbè parteci se siamo arrivati in porta con 4 persone oggi si fa del follow ok giù fallo tassico ma? c'è qualcuno in live ah non lo facciamo dire decentemente non lo facciamo dire non lo facciamo dire era diffidato è fatta a modi 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 c'è quella terra è fatta a modi hai preso hai preso ma perchè? come lo prendi? perchè lo prendi? perchè lo prendi? ma perchè Miraias? sta entrando Miraias al posto di qualcuno da noi? eh si perchè? è uscito De Bruin no 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 sarà uscito un maldine penso spero è uscito 100 l'antico allora c'è vizio di fortunato viva per l'alisa per l'alisa per l'alisa carrotsco carrotsco cioè dipende avremmo fatto uscire avremmo fatto uscire quanto è costato? oh questo quanto è costato? chiede che cosa? ma che è? mamma mia no oh oh è morto è morto poi farò sto rischiando sono rotto che cosa fischia ma era la nostra luca smalte due spettatori ma breve немa tra borraggio Ha piovuto, ha piovuto, ha piovuto, che fosse vincitato, finita attenzione a Ronaldo, la Ronaldo ciò, per cazzo, non ti capisco un cavolo, va saltato, ritorna sull'uomo, ma perché? Scudella in mezzo, Lukaku! Infamata non eseguita correttamente questa, troppo morbida, sta a mancare, e questa che è infamata è? La rima scherziamo, perché l'albero è seccata, ma con Lukaku lo dobbiamo provare. Ma guarda, ma è infortunato, non l'ho appunto prendo! Ma dove sei infortunato? Miraias, Miraias! 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 Entra con questa? Tutti dicevano, perché è entrato Miraias? Oh, abbiamo... Ma possiamo di farne una carrasca? Miraias! 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 Mitra mitrae, mitra mitraia! Oglus! Direi non erano! All that way home... All the way home... Occhiusare! Non è notato, hai spegnato la Playstation! Ti è andato sotto, devi sovona che... Ho paura di prendere la vostra torre! Che cazzo! Oh! Si racca tu! Oh! È il muto gangeli! Che modo io? Si racca tu! No, vogliamo in telecronaco, ma nel busetto. Forse io e Riccardo in tutto il torneo abbiamo fatto un dribble. Non l'abbiamo mai marcato nessuno. Compensate con 37 infamati. Continua porta, attenzione! Guarda! Che scivolato! Che gol! Che vera! Che volasse! Che ignoranza! Ho mancato cerchio, brazo! Ma non è possibile! Da vedere e rivedere! Perché è stato andato ieri di sopra! Guarda, guarda, guarda! Io dovevo essere non so più che ero via! Guardate al massimo! Che è successo? Fermi tutti! Sì, anziarte! Cami, cammi tu! Sono rimasti, ah sì, 06! Ehm... Eh... È un risultato bruciardo! Sì, sì! È un risultato bruciardo! Oh vabbè! Bruna! o no il primo non è abbastanza ormai la prima è la playa la panetta minchia schema ottimo schema guarda però provati un allenamento infamata infamata time e invece no così si segna così si segna albervire il quinto sesso non si chiama il raya stasardo raya stasardo giusto per loro l'uomo marzo la parola forse ma misteri per chiamare l'uca sapo che dietro l'hp non c'era nessun arrivo Pogba Vivo Vi faccio un altro Ah Pogba E' 07 A Pogba Non so se l'ho scritto giusto ma l'ho scritto Non lo so se l'ho scritto Alder Weirel Alder Weirel La famozione La famozione La famozione Ha preso una zolla Sì ha preso un zasso Era la sua mattonella L'avete visto Il portiere per sfidarlo E' un campo Troppo irrigato Per figliardiniere Poi Torga azzard Torga azzard Torga azzard Il muore è stato filtrato Qua era la zarda Siamo ancora potuti Se fosse possibile fare gol Si riesce a fare assist C'è entrato qua non ha perso dubbio Ma è andato a gola a la pola giro per farlo per farlo prego che imbarca che spettacolo questo veramente il gol di prima più questa è sbaglio quello ha saputo uccidere ora ti faccio vedere un paio di pedole ti faccio vedere un paio di pedole vabbè ma che stiamo a fare? sto facendo com'è di vedere i loop mamma mia salto allo stato lì un classico e farlo sedere guarda solo! questo è tutto non è il calcio comunque mamma mia brucia si trova la doccia forse non l'ha visto io la provo è la sua mattonella forse prima non la posso poter tirare mamma mia uno lukaku hai dato l'altra ovunque la sua mattonella guarda è fresco è fresco è fresco è fresco oddio oddio guarda come sta a terra guarda come sta a terra guarda come sta a terra che ci vuole dare che ci vuole dare nooooo che ci vuole dare che ci vuole dare bella coscia nooo aspetta non le dobbiamo discutere è importante nooo che c'è nooo Bayern Manchester City Sì, sì, ti prego No, aspetta No, aspetta Ok, ma la Bene, la raga, me lo osso Me lo osso, me lo osso Me lo osso Fai stamani, no? Bacchiazza Rossa, rossa Ma che gestione a squadra? Che sei minuti Sì 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 Sono 12 Sì 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 Mamma mia Sì No, ma lei è Sì 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 Venti C'è Sì Adesso Parti Ci sei tu Fatto 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 Ci sei Marti? Ci sei Marti? No, ci siamo prossimi. Stavolta va bene. Stavolta non c'era la mia. Non so più. No, non c'è la mia. No, non c'è la mia. No, non c'è la mia. C'è la mia. Chiariamo una pantata di fresco. S'è la mia. S'è la mia. Giorgio che di sta finestra. Giorgio. Giorgio che di sta finestra. Il gatto sta dormendo. Sì, ma qua vora sto poco. Sta dormendo il gatto, l'ho visto proprio quando fa. l'attivante arrivo a te città vota vota la raiata c'è una cosa mia mia ti faccio a pochi di poi c'entro no no chi è è quello di Gabriele no no ti fa scaricare no 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 di destro con Robin con Robin si non è destro puro no 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 dai mi lascio qua tutti i fidanzati mi hanno avuto la preventiva no porco dai 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 Robert ha definito la volle forse lo vediamo e ce la vediamo beh per correggio ormai se la vittoria ormai siamo con siate definiti Deborah Zito con la ma la 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 cosa che non vuoi no 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 cosa vuole che rimanga se vuole erano dalle in 10 piedi taglia no ok Soledì, sì. Ok, come andiamo gol, come andiamo gol, la fai di l'arco. Dove me prenderò il controllo? Dio, mi fido la passata, la sola. E io non sbaglio. Lei fa a cuocere di scotte. Alla che risponde Lewandowski, da Bobber Mondo. Un numero del controllo che è il telefono. Lei, lei, lei. Lei, eh. Grazie. Grazie. Ah, mamma mia. Ah. Cosa è facendo? Non ti prendo. Che vengi aperti? No. No. Sì, che buono, sì che buono. Uncchio è anche mauroso. Molto. È vero? 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 Io ho 23 euro di qualcosa. Quanto? 23 euro. Felizia, non voglio bella. No, sono io. Pensavo che eri tu. No, ti gioca a te. Non va proprio la mia assenucia. Ma ti è alluncio. Ma guarda che premi saluta, lei. Però ci siamo. No, no, no. Dai, dai. Provalo. Provalo. Mamma mia. No, lascia la città. Adesso. Ecco. No, no, no. Non vada finta. No. No, vada finta. Vada finta. Vada finta. mi chiede, non trovi a te, ecco si 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 va a te ne so lo so lasciaci un pallonetto ah come dai ruolo mamma mia lei si, la faccia del lei è il culo perché la totte offensiva io ho messo quelle imprese perché ero troppo cioè io vado a prendere ma c'è c'è un prodotto bella si che se è bello ehi, ehi ehi dico te puta non c'è più no ederson ma stai scegliando stai a uscire sembrava il buon Barsa è un mio è un po' di salone sbaglio, sbaglio, sbaglio ho voluto bombare come? come? ma non sappiamo la segnale 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 non lascia, non lascia copri e appoggi, copri e appoggi non lascia no, copri e appoggi tutto passa ma io posso ok ci sono ci sono ci sono la prima si 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 ci sono no c'è la prima rientra banca caccia 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 i chiari no no ma che non vedo un cazzo non è possibile sì che c'è non c'è più mettane solo ti pare la mia dalla bomba no che fa quello bello perché non corre no sì sì è finita dai capi non c'è vado ma non non ma doveva vincere no no vince vince allora la scelta però vabbè non c'è 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 vai no no grazie te stai aspettando per l'upper io ti sono ordinario io sto chiedendo il boss e maria no no si ci sono ma ci sono ma ci sono che sia non ci vanno 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 ma te la ma te la ma te la ma te la guarda ora mario guardare colore colore gol il cornuto ho니다vato la banderina si pare che ti fanno registi erate che va edding edding come ti sento overcoming area bamma mia no no ma che cazzo fa? perché così? in mezzo è una piccola è una piccola 76 l'arbitro ci ha voluto dole il cazzo il cazzo è stato bello dobbiamo farlo prendiamo la live l'italiano è l'ultima mezz'ora no 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 anche quello che dice Matteo ma te lo devi ascoltare tutto lo devi ascoltare tutto apre settore di live quello che cazzo il cazzo quanto cazzo ha fia sto partendo? è il compito ma che compito non si sente 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 questo è il cazzo in live non si sente fine torneo ma c'è il servizio non si sente quanto l'abbiamo fatto? non si sente io l'attacco io l'attacco io l'attacco miglior differenza 0 tutte cose migliori è l'anno 18 10 contraria no però 7 in un'altra partita è uno con l'oro con manchester impenetrabile una volta non sono subiti c'è una real 10 c'è col fatti tu tanto stiamo parlando ma è natale con la sarda. Chi è il pazzo che si guarda 6 ore di video? Ci sono 7 conti a sarda. Vabbè, in caso tagga la reattima e dici, guarda al minuto guarda c'è un rete violante Ciao, comunque andiamo ancora in live forse, no? Guarda guarda il miglior portiere del torneo che era marcatore no no marcatore miglior portiere io l'attacco se te ne mangiare ma ci stai sti tra l'altro si trova ma ci parla solo bello giocatore a chi ero? lo miglior giocatore il miglior tronista la miglior tronista il miglior tronista prossimo ma no oggi per mariano sono scelta e giubota gabriel di mariano c'è quella è troppo buona quella l'ha fatta tutta ah si 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 ma no no ci sono scelta è troppo buona che dice a te io quando ho fatto il provino della corteggia al mio pastore non c'è andato a tre mesi Francesco andiamo a presentare con la tuta un paul non c'è la squadra c'è grazie p abbiamo parliamo pieno facciam non il E io non so come dislike Poi Ma sta contando Ah ecco R.O.E Classico Scusate Scusate Non è capitato E che cazzo si è aperto Sto giocando Guarda Guarda Sotto l'incrocio C'è Beppe C'è che stiamo Mi sa che dobbiamo andare Ma ancora Sì Taglia l'ultima mano Taglia l'ultima mano Palloccia ancora Delle tue esperienze La carica Però tu puoi disattivare L'audio Lo tanto è giusto Vabbè comunque La fine è No no Lo cazzo Intanto sta E si Lasso Stacca 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 L'esso Sotto Grazie. 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 Grazie.